Madonna Mi stanno tremando le mani, Dio Oh, hanno aggiunto la pulsione oscura Ma che cazzo stai a di? Questi sono i personaggi che hanno un background, che hanno delle introduzioni Cioè, sono i personaggi quelli creati Oppure vi fate il vostro unico Che tra l'altro ragazzi, io mo' shoutout a Death Space Siamo tutto ad ultra GPU al 20% e CPU al 10% Oh, è vero che c'è stato adesso anche il mezzorco Il dragonide Ma i dragoni sono belli perché potete scegliere da che drago discendere Rame, oro, madonna de Dio Poi ci sono le teste, ci sono le creste La carnagione che sono Oh Se voi volete farvi un drago rosso Ma volete comunque, che ne so, le scaglie del drago nero Potete Che è una cosa fighissima Ma aspettate, ma i dragoni non hanno la coda Ah, infatti Ah, puoi scegliere se dargli o meno la coda Ragazzi, io se avessi un robo al cuore Io sto avendo le palpitazioni Che tra l'altro, un'aggiunta che hanno fatto è che sapevo Che adesso voi potete addirittura Mettiamola un'altra volta nuda Non per farvi vedere le cosacce Ma abbiamo anche la versione big waifu Cioè potete farlo o esile O Me coglioni Bello muscoloso Bello tic Questa è una cosa che adoro Madonna raga, ma un elfa Una strong waifu elfa Ma è bellissima Ma raga Vorrei fare un tifling in realtà Che io voglio fare Oga ragazzi Nella sua campagna originale era un mezzorco variant Perché era un oni Però non ce la vedo così Oga Se dovessi fare Oga Dovrei prendere il ranger Per prendermi la sottoclasse Per avere il companion lupo E fare kiri Tratto il paladino Dall'ultimo aggiornamento C'ha anche l'off breaker Perché il paladino C'ha come cosa che fa un voto, no? Se voi spezzate effettivamente in game quel voto Quindi di aiutare Di stare sempre nel giusto Di fare il bene Diventate uno spezza voto Essenzialmente un paladino scuro È bellissima come cosa Allora io vorrei andare in realtà veramente di ranger Perché se c'ha la sottoclasse Per evocare il companion Io voglio fare kiri Ma guarda che noi stiamo soltanto mettendo la base ragazzi Adesso ci sta la personalizzazione Ah no qua non l'ho fatto Il fatto è che Baldur's Gate è Baldur's Gate Volevo vivermelo con voi Quindi andiamo un po' a braccetto insieme Mettiamola così Modifichiamo l'aspetto Allora Ovviamente Strongy waifu Brutale Allora questo è il viso che ha odorato Oga è molto chiara di volto Ah è vero posso fare tutti i colori Oh maturità Quando vogliamo fare la vecchiotta Quantità di lentigi No finalmente puoi scegliere come cazzo farlo Ma tra l'altro sono anche sul corpo Sono anche sul corpo Ma che cazzo stai a dire? Oh mio dio Puoi metterle anche sul Tette si Raga Le vedrete spesso ve lo dico Ci stanno gli occhi dei draghi Oh Si con le fiamme nelle pupille La cosa che vi dicevo è questa Cioè voi magari fate il tifling Dasmodeus Che solitamente C'hanno le corna in un modo Sono solitamente rossicci di pelle Non volete farlo Cioè volete fare un personaggio Quasi ombriu Cioè volete fare in realtà Il tifling dasmodeus Bianco Potete È questa la figata Li vorrei viola Però non viola nucleare Nero corvino Oh Ecco perché Oh Una volta che ci sta il culo dei capelli di Oga Porca città Ma sempre Ma perché è Baldur's Gate Per questo anche Ci sono rimasto un po' male Che di recente ho visto una quantità di video Eh la best build La best classe Eh come fare il maggior numero di danni Però Baldur's Gate Per quanto uno può giocare da power play Voler fare più danni possibili Cioè Baldur's Gate non è soltanto scontro Cioè non so soltanto danni Cazzarola Poi per carità ognuno può giocarlo come vuole Però è un po' Tu ti devi mettere nei panni del tuo PG Per carità esiste il power play anche in D&D Però Se è la prima volta che tu giochi a Baldur's Gate Devi giocarlo come un gioco di ruolo Abbiamo finito quindi Avanti Scusate Il custode Nell'early access c'era letteralmente Dimmi che cosa ti attrae Quando facevate il personaggio Step dopo Cosa ti faresti Madonna ma che bella l'armatura Hai bisogno di un custode Scegline uno Facciamo Ruka Ma poi sta cosa che serve Perché prima c'era la tizia che ti faceva Pissi 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 Vieni dai Mind Flayer Mi sa che adesso inizialmente ci sta uno che ti fa No zio Fatti cazzi tua Non ti avvicinare neanche che ti spezzo le dibbie Tipo di corpo Pure lei è una stromadonna Colosso Dio Cristo E va bene all'avventura Mo mi fa Che ti fai adesso invece No strano Primi un'ora e mezza passati veramente a creare il PG Che non vedrai mai magari Benvenuti a Baldur's Gate Una città nata grazie ai mercanti Piena di merda E ancora più merda quella che ci sta sotto Questo dice Porca puttana ci si stanno per scopare E' inutile che vai a suonare la campana Se vedi una naviglia Vuol dire che ti si stanno per inchiappettare sangue zio Finalmente in game Posso usarlo o trovare famiglio? Non può essere lanciato mentre il nuovo parassita Sta entrando in sintonia con la mente e con la magia Hanno aggiunto delle piccole robe Per non farti fare il porchettone iniziale Cioè ti stai di guarda Il parassita si sta ancora a sincronizzare con il tuo corpo Quindi non puoi utilizzare determinata roba Bravi Oh guardala che tic C'è l'intimo Scusa che intimo c'ho? No no Oh l'hanno aggiunta sta roba Madonna perché questa era una roba ragazzi Che era un fastidio Dio madonna Perché tu avevi queste 4 miliardi di chiavi Sì 4 miliardi di oggetti da dovette magna Adesso ci sta il porta chiavi Il porta cazzo robbi per il crafting E il porta scorte Dio madonna Hanno cambiato la nave Il non è uguale a prima Oh finalmente le zelle non era l'incoglionita Mi prende di nascosto Mi chiama che figata Però adesso sto notando una cosa Anche nell'interazione di queste robe È molto meno rotto rispetto a Giustamente alla release Ma tutte queste robe ragazzi Erano molto Molto Rotte Cioè il prologo ci aveva un sacco Dei cazzi indevastate Sì hanno cambiato tutto questo pezzo Di roba Ti fanno subito Madonna che bello Ma che cazzo stai a di Ma io scusate ma mi devo aspettare Sto livello di cazzi indappertutto Freccia di ghiaccio ci abbiamo Vai bravi stronzi Però vedete anche rispetto a un divinity Quanto è un combattimento veloce Quanto è rapido Quanto è fluido Ciao shadow art cucciola di mamma Un attimo e te libero Domanda ma io finalmente posso usarlo Oh che famigli stanno Corvo Topo Rana Granchio Gatto Ragno Rimani pure la ragno di merda Non c'è cane Perché questo è il famiglio Quindi è quello piccolino Eccolo così Illitid più saggezza Ordina la capsula di aprirsi Che classe difficoltà Due non uno Perché hanno capito che con uno È fallimento critico E quindi Te prego Ciao shadow art Potresti essere morta C'è di proprio Fammi un attimo Ti prego Rifandolo fare Lei zelte prego Volevo fare romance con shadow art Sì 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 Madonna avevo visto di nuovo uno Porca madonna Guarda Cacciavo una madonna Provavo ad aprirla a forza Nego Perché era l'unica Shadow art Bella de mamma Che tanto qua in realtà si chiama Cuore oscuro Ci arrivi fin laggiù? No Però se faccio questa cosa Col salto Leppo Ma questo è D&D eh Perché su D&D pure il salto è una cosa sbroccata ragazzi Ma l'hanno rifatta per bene sta roba Metterà un nuovo standard Meno male I triple A questo dovrebbero fare Oh questo è un santuario di Char Ma che bello Tutto con la roba in onice Ma che figata Pieno dei morti Perché ovviamente Char Dea dell'oscurità E dell'uccisione Quindi Qua dovete sapere che Nell'irly access Non c'erano caricamenti Cioè non c'erano texture E questa dro qua a destra Se fate i cattivi Potete farvela La romance Mai genocidio fu più bello ragazzi Uccidere tutto Tutti E' stato bellissimo Solo per quella cosa E questa in realtà Ma è la cosa che mi preoccupa In questo gameplay Cioè adesso La roba che abbiamo nell'occhio Ma va avanti veramente A long rest Cioè ogni long rest Che faccio Tecnicamente noi dovremmo Essere particolari Per carità Non siamo una persona Normale Che è stata infettata Perché parti di D&D Ok no Ci abbiamo Quelle due tre cose No non è plottarmo Perché pure adesso Non so se ci avete fatto caso Stavamo piondando A testa in giù Verso per terra Ci ha fermato qualcosa Qualcosa o qualcuno Ci ha fermato Da toccare per terra Ciao Artbella de mamma Come stai Ti si fatta male Hai battuto la testa Che tra l'altro Dovrebbe essere un segreto Che lei è in Chirico de Char Peccato che All'armatura T'ha pezzata Cioè nel senso Mo lasciamo perdere Il giocatore Magari in sancazzo Dei Forgotten Reans Ma se una persona Nel mondo De sto coso Vede una Con armatura da Chirico Che i simboli de Char Qua 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 Tutta fatta gaybredonice Ma tra l'altro Shadow Art Giusto per curiosità Proprio eh Io da quel che ho capito Intimo di cuore oscuro Mi sa che c'hanno Gli intimi personalizzati Che cazzo vuol dire Hai capito Shadow Art E' andata direttamente Boh non so Da dolce gabbana Però bravo eh Bravi bravi Oh No dai Ma che dettaglio Bellissimo Questo in realtà Sono cose del suo background Ha paura dei lupi Quanti dibanti In un lupo Abrividici di paura Se ti avvicini A meno di 9 metri Da una creatura lupina Devi fare un tiro salvezza Su saggezzo O essere spaventata Retaggio fatato Vabbè perché E' una mezzelfa Milizia umana Privilegio passivo Competenze nelle lance Nelle picche Nella barde Nelle falcioni Nelle armature Leggere Negli scudi Tag Balduriano Quindi viene da Baldur's Gate Mezzelfo alto Mezzelfo Umanoide E cuore oscuro Questi sono tag Che ti identificano All'interno dell'ambientazione Quando io parlerò Con qualcuno Ho dei dialoghi extra O in meno E vengo percepito Come quei tag Come un po' su Divinity Ah si abbiamo proprio Madonna Mamma mia Oga Ma sei bellissimo Sei più bella così Che con la tua armatura Questo è il nostro accampamento Oddio adesso hanno addirittura Le tende persone Però bello che hanno anche gli abiti Giustamente D'accampamento Fursi il viaggiatore Vabbè la cassa del gruppo Oh Questa è una cheat A Divinity Quella con i vestiti peculiari Devo capire K del È veramente Sono delle cheat A Divinity Questo è il cappello Di bestia È l'elmo del nano Di Divinity Sì Lago della principessa Fuori le Madò È la cappa Del principe rosso È proprio mostrare Amore Per i propri giochi Per fare ovviamente Dei long rest Come in D&D Ci vuole il cibo Oh Lo prendo in automatico Da tutto l'accampamento Bravi Lo influenziamo a nostra volta Ci proviamo Quanta è la prova Cinque Però C'è Shadowheart Che mi può castare sopra Guida Un D4 Alle prove di abilità No mi sa che non me l'ha castato Sì ho capito però Zia È il secondo tiro che fai Oga Puttana la miseria È la seconda volta Chissà se tra l'altro cambia Se fai un 1 O semplicemente un fallimento Sarebbe interessante Però porca puttana Ma raga Oh Oga fino adesso Ha fatto solo fallimenti Il dato altre 19 facce Quanto pare no È bello che veramente È come quando giocavo I D&D Faccio solo uno Io voglio portarvi da una parte Vediamo se riusciamo ad entrare Subito qua dentro Se Vabbè che dopo tutti i stili De merda che sto fanno C'è proprio nemmeno Allora Shadowheart Chi è che è più brava a scassinare? Eh quando pare un gazzo di nessuno Qui vedo Eh no Questo è in tiro alto Questa è una zona che potete entrarci Fin dall'inizio Vi voglio far vedere un paio di chicche Questa dovrebbe essere un 20 Ci riproviamo Perché si rompono ovviamente gli arnesi Se fallite Tenta di nuovo Dai 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 Madonna sti Dio Cristo Apri sta porta di merda Hai visto Shadowheart Che sono bravo? Questa per entrarci Vi faccio vedere un paio di chicche Veramente fighe Madonna che belli gli effetti di luce Questa cosa Non sta facendo laggare Dio madonna Ah ma io ho fatto una cazzata Ma se ci sparo si attiva? Eh perché era il pulsante Che mi ero dimenticato Arlock Non so se avete capito Che uno si è fatto venire Un'idea del cazzo Del ma se sparo al pulsante Si attiva Si è attivato No no è che va a breve Dovremmo trovare gli altri companion star Però sto venendo qua dentro Per farvi vedere un paio di dettagli E di chicche Religione No no questo star si chiama Essere in D&D Dove il barbaro Che c'ha meno 8 A religione Fa 20 E conosce magicamente Tutti i dei del circondario Abbiamo livellato Fa vedere come è il level up Però vedi Aggiungi classe Multiclasse Questo funzionamento avanzata Ti permette di combinare I punti di forza Di più classi Ma ti impedisce di raggiungere I privilegi di classe Di livelli più alti Perché se sono 12 livelli O fai 6 e 6 O poi in realtà Multiclassa pure 3-4 volte Cioè se noi volessimo Raga Ipoteticamente Sono 12 classi Potremmo fare un livello per classe Vi faccio vedere anche Una chicca che vi dicevo prima Se noi adesso andiamo All'accampamento L'accampamento Varia Ovviamente In base a dove siamo Siamo in una cripta L'accampamento è una cripta Loro potevano tranquillamente Metterti sempre che tornavi lì Col cazzo Allora in realtà Io vorrei un attimo farmi furbo Perché qua ci si fanno forte Qua ci si fanno veramente forte Se non sto attento Perché siamo da soli Sto facendo tutto questo Per farvi vedere Una chicca Veramente bella Di sia di gameplay Che di ambientazione Che di roleplay Ma finalmente sto pulsante Se vede Non devo fare un tiro Su percezione Perché mi è capitato Molte volte di fare 4-1 su percezione E non vedere Sto tassellino di merda Qua se siete furbi Questi potete effettivamente Prenderli Raggrupparli in una Madonna Raggrupparli in una parte E inchiappettarli Capito perché siamo andati In furtività Ragazzuoli Ah no E' entrato in combattimento Il piccione Sbony che si sono girati Pure tutti a cazzo Shadward vieni qua Allora cucciolona Tattica Incantesimo sacro Devi shottarlo Gli hai fatto 9 4 di 6 Gli hai fatto 9 Iniziativa 2 Bene Vieni dal signorino qua Così lo distraiamo Anche perché c'ho un HP Col corvo A ciecalo Però mi sa che è immune No Ah ecco perché Shadward l'ha shottato Perché giustamente Essendo Skeletri Sono deboli Al contundente Ma che cos'è questa roba Qua per terra Ah è l'effetto Del silenziato Veramente Non arriviamo Per un passo laggiù Scudo della fede Allora Ma basta Hanno messo Silence OV Questi strozi Vai attaccalo Corvo Ha crittato No Non gli fare male Eh l'ha shottato Sei silenziato Mad E questo si chiama Attacco d'opportunità Eh l'hai missato Contundenti Becca Mettiti qua Shadward Perché se questi Si provano a spostare Te li fai fortissimo Vabbè tu dovessi essere più forte Ma giustamente Stanno con mani nude Perché io ho tolto le armi Quando glielo ho raccolte Quindi fanno soltanto il pugno Che fa uno più forza Riesce a saltare Qua Così ci possiamo avvicinare Senza scivolare Come delle merde Pacca di legna del merda Qua 12 danni Boni in culo Perché scappi Si chiama Attacco d'opportunità Pure questo Questo qui ragazzi In realtà È un dungeon Che voi dovreste Entrarci molto più avanti E che inizia Con un gruppo D'avventurieri E' entrato in questa Rovina E questa entrata qua Era un'entrata segreta Porca Salve Eh vedete Ha detto l'animazione Qualcosa sta uscendo Dalla cripta Perché giustamente Per loro era chiusa Questa Dicono Chi cazzo Come fanno a stare dentro Delle persone Posso prendere lei No peccato Volevo lanciarla dentro Per chiuderla Marchio del cacciatore Una bella balestrada In bocca Puttana Ecco quello lì Sarebbe stato un tizio Che noi eravamo Davanti alla porta Diceva chi è che bussa Oh che c'è successo E dovevamo convincerlo A sto giro invece Ce lo inculiamo a sangue Sorpreso Sfrutta questa situazione A tuo vantaggio Abbiamo un turno extra L'attrosciato arte Ancora in furtività Perché non l'ha vista Pezzo di merda Allora adesso ragazzi Se tiriamo bene Si fa una figata Se tiriamo di merda So cazzi Adesso appartiene a me Andate via O finirà molto male E' Oga comunque Ed essendo Un Tifling Non mi ricordo Che cazzo è C'ho 8 a 1 d'argia Ho il vantaggio E ho anche Shadowheart Che mi dà un d4 Se non riesco a fare 10 Ok Tu vedi XP Giusto però Questo per iniziare È molto molto figo Perché col fatto proprio Che è aperto E che è veramente Tanto che tu ti ci puoi Mettere dentro Cioè puoi creare Un personaggio A tutti gli effetti Io te lo consiglio Cioè di Ok io voglio creare Questa roba Andatevene via Merde Ah questo si Shadowheart Tra l'altro qua Se fosse partita una fight C'era anche una cosa Bellissima pure Per entrare in un modo Differente Ovvero rompendo Questa cosa Sciottavate I due tizi Sopra E potevate anche Addirittura Entrare nella cripta Da qui Che si entra in quella Stanza dove ho trovato I panni prima Però adesso ho fatto Effettivamente questa cosa E mi sono dimenticato Vi ricordate che dentro C'erano i signorini Secondo voi Sono rimasti zitti Buoni e calmi Ovviamente sono andati a controllare Che è successo Eccoli laggiù Perché qua bisogna un attimo Gestissela bene Perché se no so cazzi Ce l'ho qualcosa Che fa tipo Del fuoco In qualche modo C'ho Burning Hand Ma laggiù Ci arriverà mai nella vita Tu c'hai dardo di fuoco Shadowheart Perché quello lì ragazzi Questo qui È un barile d'olio Ok ancora in furtività Pensiamo al barbaro Il barbaro È il primo che deve morire Come uno stronzo Perché il barbaro fa male Allora Shadowheart Cerca di attirare L'attenzione De sto stronzo Castato addosso Shield of Fate Che dà un più due Alla CIA E che non dipare Che va in ira A sto pezzo di merda Barbaro standard Uno uno eh Tacca Shadowheart In realtà Il barbaro Ce pensa La nostra cara signorina Ci riusciamo a seccarlo Il mago Tiro massimo Sui danni Mica male Allora C'ho un 65% Da acchiappate Su Che merda L'unico fatto È che se voi usate Questa roba qui Fa marcire la carne Ergo se io voglio usare Un incantesimo Per parlare con i morti Su questo Non posso Perché non ha più la bocca Se lo polverizzo Se gli do fuoco Se gli do le scosse Se lo faccio esplodere dal ghiaccio Se gli taglio le gambe Quelle cose così Giustamente poi Non ci puoi più interagire Parola guaritrice Stancati sta nana di merda Ignis Sono resistente al fuoco Sono un tifling Dio meo Becca Madonna che bello L'attacco d'opportunità Che suddivini Dovevi prendere Un talento apposta Dio madonna Eh sì Shadowheart è morta O almeno è atterrata E invece no Resiste Oh guanti di cuoio Ci stanno bene Grazie signorino È stato un piacere Depredare il tuo corpo Ah ma cazzo È vero Sì ho fatto tutta sta cosa Non ho fatto quello Che dovevo fa Bonnie Mi sono dimenticato Che giustamente Sto a fare il dungeon Al contrario Io me ne stavo andando Devo finire il dungeon Dio cristo Qua dentro c'è una cosa Molto bella Amuleto Delle voci perdute Parlare con i morti Che cos'è questo? Ottimo ma c'è il crafting Veramente Tre per macinare dei sali Olio dell'affilatura Diluito Oh per fare le armi Più uno Ciao Ciao Ah c'è proprio Scendi come l'anticristo Nella release Questo è molto per l'allineamento Però vedete quella cosa che dicevamo anche su Dragon Age 2 C'è questa cosa di poter fare botta 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 anche con dei dialoghi senza l'audio del giocatore Si può fare perché noi effettivamente stiamo facendo sta cosa ed è una figata E tra l'altro pure una cosa che io non ho parlato parecchio Ricordiamo ce lo stiamo a giocare in italiano Baldur's Gate dalle 100 alle 200 ore di gameplay è tutto tradotto e localizzato per bene in italiano Non è da poco Siamo tutti uguali? Madonna che bello lui staticamente Adesso ci andiamo a prendere un'armatura molto bella per Oga Tutto questo è bellissimo perché adesso comincerò a girare qua attorno per il dungeon e a fare Oh ma da quant'è che non scendevo qua? Però che bella sta cosa perché tutte quelle robe che c'erano nell'accesso anticipato anche di proprio grezzo Nelle interazioni, nei cambi di scena quasi diventate giustamente il nulla Ma così presto? Raccogli un paletto e lanciati sul mostro Nel petto furtissimo Quanto tempo è passato l'ultima volta che hai ucciso qualcuno? Giorni? Ore? Il cazzo dei vieni c'ha sulle braccia Non c'è il cazzo dei vieni cazzo Allora, non c'è il cazzo І cazzo dei vieni cazzo fahren Raga, ma avete visto che cazzo mi ha fatto sul collo? Ma guarda che cazzo mi ha fatto Ma quello non è un mozzighetto Mi ha impiantato due paletti nel collo Perché tecnicamente qua voi dovevate incontrare Un cinghiale completamente dissanguato Ma in salute Potevate puntare i puntini E lui a un certo punto dice No, mi serve il sangue vero, vero, vero Che non me l'hai detto Ci stavo pensando onestamente Devo indicare i due fori Ma scusate, ma aspetta, forse è un bug Cioè, o mi ha mozzicato, ma poco O è magari quello che verrà Cioè, se mi faccio adesso mozzicare Mi dovevano spawnare quelle due cose Ed è così, ti credo Grazie Mi do un calcio nelle palle Se me lo dici così Va bene, ma fai un movimento di troppo E ti pianto un paletto nel petto Ah, ovviamente Sì, comunque era un bug Non doveva apparirmi subito il mozzico sul collo It's like a shard of ice into your neck A quick sharp pain that fades to throbbing numbness Your breath catches, your pulse quickens Basta, così Però belli i dettagli Veramente, veramente belli i dettagli Gli si sono anche ravvivati gli occhi Attacco in mischia Abbassato la guardia Afferro il paletto Ma basta Bello come in ogni caso Comunque Oga posso dire che sembra un modello così Oga in qualsiasi momento sta là dietro Sì, 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 fai il pezzo del merito Cioè, ok, in realtà adesso dietro la schiena c'è il paletto brutto Questo è un CRPG, Dio Cristo Perché tu lo fai Magari perché ti dà il vantaggio, vedi Vantaggio, svantaggio, situazionale Perché Ha abbassato la guardia Se tu qua tu sei un paladino Che vuole cacciare il male Che c'hai il voto di cacciare il male E ti fai fare questa cosa Secondo me lo infrangi il tuo voto Cioè, il gioco ti avvisa quando stai per fare scelte di quel genere, eh Però qua tu secondo me lo infrangi Vedo l'ora di vederti a combattere Non bisogna prendere molto tempo Tuttavia molte persone bisogna uccidere Ora, se mi scusate Stai invigorando Ma ho bisogno di qualcosa di più Cacciare Questo è un dono, sai Non lo scusate Non lo scusate Guarda quando si stocca Nella foresta Più più forte Più più confidente Ma che belle le cazzine Ah, sono dissanguato La sede va a prendere l'esterno E si fa sentire È un meno uno per i tiri Per colpire i tiri di salvezza La maggior parte delle prove di caratteristica Ci dobbiamo riprendere il sangue Ma tanto mi è rimasto il morso sul collo No, peccato Questa in realtà potrebbe essere la prima volta che lagga Perché questo è uno scontro bello grande Ma che bello Ed è una roccia il framerate Una cazzo di roccia in live tra l'altro Ricordatevela sta cosa È troppo ottimizzato Non mi piace Uno su dieci Allora, dobbiamo cercare di salvare tutti e tre i signorini Goblin Booyag Proviamo a farcelo Con un colpo dovrei riuscirci Con 81% Becca Shadowheart Flagra Beccato Corri Reizel Prossimo turno ti infili I due goblin di merda ragazzi Stanno per morire Thunderwave Cazzo, quell'altro l'ha fatto Il tiro salvezza Savia, uccidi una creatura infliggendo danni da caduta Eh, marchio del cacciatore non lo puoi mettere signorina Mi sape? Eh no Però puoi usare la pozione della velocità Per avere due azioni No, proviamo a eliminare lo stronzetto qua Hai mancato Brava Proviamo a eliminare l'incantatore Ce lo siamo fatto No, è morto uno dei compagni Eh vabbè, volevo salvarli tutti Non ce l'ho fatta E ammazza sto warg di merda Spingi sto stronzo via Shadowheart Se riesci a buttarlo di sotto Questo muore Cazzo Carica Capo goblin dei miei coglioni Eh, aspettate che ovviamente Se bevi la pozione della velocità Poi vai in letargico Perché ti affatichi tanto Crimini Alcune azioni sono ben viste dalle altre persone Vabbè, ho capito Sto derubando dei goblin Che ci hanno attaccato Scusa, viene calcolato come furto? Depredare i goblin? Onestamente sì Divende come si fa a sviluppare Quanto diventa complesso Quanto diventa Eh, però potrebbe vincerlo Perché potrebbe essere il CRPG Si è appena concluso una battaglia Già ne state cominciando un'altra Allora, calmatevi Tell that to the dead at the gate Shut the horns I'd be lying dead next to the goblins If you'd stalled any longer My duty is to this camp Oh, God forbid you risk your precious tail But I shouldn't be surprised Fallbloods ain't known for courage Sangue sporco Ovviamente i tiefling vengono visti Come ogni mezza razza Nei Forgotten Ream Non è che vengono visti proprio bene Perché comunque hanno sangue dei diavoli, eh Hai visto che sono un tiefling? È un umano Dire e fare cattiveri per lui È facile come respirare Fagli vedere che sei meglio di così E adesso vi farò anche un po' Arrudere il fegato Perché voi vi aspetterete Una conseguenza Ma io non la farò Voi sapete chi è questo scogliattolo Perché lo hai fatto? Indietro Indietro te ne pentirai Dissanguato Menù uno Peccato che io c'ho taumaturgia E c'ho Shadowheart Ma ho fatto uno Boni Va bene Ricompensa Incentivo di Rametta Abbiamo convinto Rametta A lasciare camminare sul suo territorio Ci ha lasciato un piccolo gengillo Per tenerci contato dagli alberi Orecchio Di Iena Soluzione alchemica Pozione Ma che cazzo dici? Ma così? Ma che bello Questi sono Guanti cattura proiettili A chi ha per proiettili Puoi intercettare i proiettili Degli attacchi a distanza Con arma E ridurre i loro denni Di un D10 Più il tuo modificatore Di destrezza Giustamente È D&D I guanti per un monaco Sola fine E state zitti Voi che sto guardando Il mercatino dell'usato qui Cagaminchia C'è un arco più figo Allora se io comprassi Questo e questo 650 monete Eh ragazzi Questo è come in ogni partita Sentite Ho visto una cosa al mercato Ci costa tutti i risparmi Però Faccio un D8 extra È stessa cosa Raga esistono le tinture Non so se avete capito Che cazzo significa Cioè mi fa cagare Questa armatura La tingo Di verde pallido Aspetta Io devo provarla Sta cosa Aspettate Combina Con l'armatura Ma chissà se sta cosa Puoi farla anche per le armi Cioè perché questa è una cosa Ti piace magari Come è fatta un'armatura Ma ti fa cagare il colore Glielo cambi Dio Cristo Non sono un bardo Cioè se provo a prendere Veramente quel liuto Tiro una schitarrata Spacco i timpani tuoi Di tutta la gente E moriamo Te lo dico Sarebbe bello se a forza di suonare In realtà puoi far rendere La competenza Ma non credo Perché è una roba da bardi Quindi penso che ti devi fare Minimo un livello Da bardo tattico Ma annuisci E indica del liuto Per sparonarla All the love I cannot repay Rest and noted I will pray Farewell my dear old friend Musa Oh remind me of your grace Oh remind me of your grace Thank you Oh the love I cannot repay Musa Oh remind me of your grace Thank you Oh the love I cannot repay Oh the love I cannot repay Porca puttana però Bella bella cazzo Ma ha fatto la pelle tua Che wow Guarda che bel boschetto Così grazioso e boscoso Che cazzo Una bella canzone Vale bene Qualche lacrime Non lo sappiamo suonare Perché non siamo un bardo Però una cosa bellissima È che se più bardi Si trovano vicini E cominciano a suonare Si uniscono alla canzone Cioè se noi facessimo Un team di quattro bardi E ognuno ha uno strumento E suoniamo tutti La stessa canzone Ognuno fa una parte Di quella canzone Ed è una figata assurda Perché si uniscono anche bardi Come lei Cioè lei essendo un bardo Se cominciamo a suonare Si unisce a noi Facciamo un concerto Sì In realtà volevo farvi vedere Una roba che ho scoperto Che mi ha fatto esplodere la testa Questo tipo qui Io ho scoperto Lui serviva soltanto A riportarti in vita Gli alleati Qui Lui c'ha due funzionalità extra Se voi siete un personaggio Peculiare Sia di background Come giocatore E compagnia E quindi magari L'unica persona Con cui vi trovate A vostro agio E Shadowheart E non volete avere Il party De due persone Lui vi permette Di assoldare Dei gregari Cioè degli NPC Che vi aiutano E inoltre Permette di fare Il respack Giustamente In un gioco che dura 100 ore di campagna Tirato per le lunghe 200 e passa Poter cambiare classe Mi son fatto 12 livelli da ranger Mi fa un po' cagare La cosa Voglio fare 6 da ladro E 6 da ranger Oppure che ne so È successa una cosa De dramma particolare Il mio paladino Non crede più Alle divinità Quindi non è più Un paladino Invece di fargli fare 12 livelli da paladino Magari se ne fa 12 da guerriero Questa è una cazzo Di figata Perché ero preoccupato Magari faccio Delle scelte sbagliate Potete prendere I rimedi Dall'ultima volta Ho fatto Economia Chiamasi Vendere roba Sistemare le abilità Rubare Ho fatto Un sacco di furti A Stadion È una madonna Bellissimo Perché in realtà Adesso abbiamo finito Paradossalmente Un po' il prologo Dobbiamo andare giusto A fare l'ultima chiacchierata E cazzi e mazzi vari Però Baldur's Gate Appunto È un gioco di ruolo Tu non sei costretto A fare niente Che non sia appunto La missione principale Perché solitamente Sono quelle cose Che o fai O muori Come uno stronzo C'è qualcosa di strano In questo bue Di che si tratta? In te c'è di più Di quanto Chiunque è in grado Di vedere Ti va di spiegarmi? Sputa il rospo Mucca O te ne pentirai Che tra l'altro Anche una cosa Per farvi capire Un po' come gira il mood La mappa Come vedete È piena di puntine Gazzi e mazzi vari Quando una cosa è gialla Vuol dire che è neutra Ergo potete parlarci Bene o male Quando una cosa è verde È amichevole Quando è azzurra È alleata Quando è rosso Invece significa Stai attento Cioè significa che Se quella roba ti vede T'attacca Cioè non ci stanno Né se né ma Stessa cosa va in giro Nel senso Tipo questa roba Se la seleziono È bianca Se io vado su quel tavolo E vado sulla caraffa Me la segna come rossa Perché? Perché sto rubando le mani Questo anche per capire Magari cosa potete toccare O no Imprigionarla è solo una piccola bambina Oga c'ha la mia stessa faccia Nel senso Siete dei druidi Ogni giorno avete degli slot Per creare magicamente Acqua E bacche Che vi riempiono Una bacchetta così Vi riempiono lo stomaco Per una giornata Mangiano il nostro cibo Bevono la nostra acqua Cazzo adesi Facciamo il dettaglio Individuazione dei pensieri Sono curioso Leggiamo i pensieri di Kaga Ah cazzo È comunque una prova Ti prego Pormi da loca Hai dato prova Della tua autorità Ora dai prova Della tua misericordia Peccato che il serpente Non parli Visto che ci abbiamo Ciao Adoardo Che cazzo c'è Udo Questa è nuova Anche perché era tipo Energia viola Forse perché non vuole chiacchierare in mezzo a tutti Tanto fa male No vabbè Sarà da parlare L'accampamento Comunque Lei è una Chierica De Char E Char È una divinità Molto particolare E molto greve So gli adepti Subiscono delle robe particolari Devono fare delle robe particolari Per fare quelle robe particolari Gli fanno a loro Delle robe particolari Poi entreremo di più in mezzo Quindi secondo me qualcosa Di collegato là Sì esatto Char ne è propriamente buona Giustamente è l'altra faccia della medaglia di Selune Che è la sorella Che è proprio l'opposto Go on Say it You think I'm a monster No Solo un monstro minaccerebbe una bambina Yes You would Say so I know you're kind You see only villains and victims A viper bears her fangs Defending her brood I call her mother You call her monster No matter I took back the idol of Sylvanas And the writers resumed We will seal the grove Free from harm Free of intruders Cosa otterrai mandandoli via Non hanno fatto nulla Nothing They've done everything You showed great metal at the gate The metal of a skilled sword for hire I want you to provide your services to the tiefling leader Zevlor He's called Offer to guide the outlanders out of the grove I'm sure they reward you well They're to be gone before final prayer If they are not The viper Must strike Bellate ora pure quanto cazzo ti pare E pure Oga ha fatto tipo Ma che cazzo Then they soon know the sting of my venom Get out We have no more business Comunque le interazioni del personaggio stanno proprio No Zio Io so qua che cosa c'è Lo sai se attacchiamo questo che cazzo succede Parte un giga dogfight dentro tutto il coso Noi attacchiamo lei Quando usciamo fuori C'è stanno tutti i tiefling e i druidi Che stanno a fa' pizze Diventa una civil war qua dentro Non ci rimane veramente Neanche l'erba per terra Comunque che bella sta cosa che voi potete parlare con i morti Con le piante Con gli animali Con qualsiasi cosa potete parlare È una roba incredibile Volevo solo che familiarizzassi col mio odore Ti lascio subito in pace No Wait You smell fresh Safe You can stay If you must Now What was it you needed? Posso dire che questa nonna è proprio bella Ogni volta che la vedo Netti Visto che Hogan è un po' una babbaciona Sei nulla dei Mind Flayer Qualcosa sei infilato nell'occhio Sai che cos'è? Puoi darmi una mano? I I'll do what I can Come Follow me I might be able to help I volti sono veramente bellissimi This one had the same problem as you Attacked us in the woods together with some goblins Tadpole crawled out of his head soon after Spero si stanno a guname in estrema I do the best I can I've no master house in mind You'd have your tadpole out like that Still We have options All right Let's see what we can do La dirò molte volte Ma le espressioni che fa il nostro PG De confusione Cosa sono veramente belle Insomma è una cura It might But first thing's first Tell me about your symptoms Have you noticed anything strange happening? Looking closer You realize you've seen this thorn in the wilds It's Kalimvor's kiss A briar from the Dalelands And a deadly poison Perché noi essendo un ranger Non ci ha fatto fare neanche nessun check Lo sappiamo perché sì Se vuoi parlare Metti giù quel rovo I want to help you But I can't unless you work with me So Has anything unusual happened to you? Posso fondere i miei pensieri Con quelli di altri infetti Victims can identify each other Not that the others know they're victims of course How do you pick up the parasite? Halston was desperate to find where all this was happening Una nave di Mind Flayer Mi hanno catturato e infettato A Mind Flayer ship? But Master Halston was sure Look You've been straight with me So I'll be straight with you You're dangerous If you transform here We're all dead But you seem like a good soul You deserve a chance to save yourself This is a vial of wyvern poison Swear to me You'll swallow it if you feel any symptoms Va bene I hope it doesn't come to that But Thank you Here You know I've spent my life treating folk And never once saw a Mind Flayer infection Then suddenly There's dozens of you Maybe more Master Halston and I were tracking them Studying Trying to figure out What the hell was going on La porta là dietro È perché ce l'ha chiuso dentro There should be a small army of Mind Flayers out there But you're not Weird powers aside You seem perfectly normal Oga continua a guardarla Dio Vabbè Che cazzo ti ho detto io Buccio del culo Cioè c'è proprio la faccia Vabbè zia Sono sculata Che cazzo ti ho detto Avrete pure appreso qualcosa For one That thing in your head Is like nothing we've ever seen from Mind Flayers It's one of their worms for sure But this one gives you powers Telepathic connections And it doesn't turn you into one of them Not yet Anyhow Una buona notizia no? Could be But there's a lot we don't know Infected Folks like you Have been converging on an old temple of Saluna And I've no idea why When Master Halston heard the adventurers were heading that way He saw a chance to get answers Joined on the spot Whatever he found there He didn't make it back Va bene Lo troverò Thank you It would mean everything to the Grove To me I wish I could tell you more But only those adventurers know what happened out there All I can say for sure Is the all went to the old temple of Saluna And Master Halston didn't make it back Good luck out there And if things start to go bad Remember the vial Remember your oath Why are you getting closer? There's something in that vessel Take a closer look Che cazzo era quella linea? Era qualcosa nella nostra testa che ci parlava Ospite onidica C'è qualcosa su quel vascello Va a vedere più da vicino Che vascello? Qua c'è un cadavere Amico C'è qualcosa da dirmi? Salve amico cadavere Dove hai ricevuto il tuo girino? The corpse remains silent It doesn't understand the question Che t'è successo? Chi ti ha ucciso? Sei stato sbranato da Alcim Hai capito la cura? Che bella Questi occhi così Questa in realtà è una domanda Che se voi non sapete l'ambientazione Di che cazzo vuol dire Ma perché essenzialmente Raga I draw all'interno del Forgotten Realms Vedeteli come gli elfi oscuri Cioè sono gli elfi che stanno sottoterra Quindi sono oscuri le pelle Con i capelli bianchi E in superficie principalmente Vengono visti parecchio di malocchio Perché in teoria In realtà Sottoterra Ci stanno due fazioni Ci stanno i draw buoni E i draw cattivi I draw cattivi Stanno con la dea Ragno lot Vogliono fare bordelli Cazzo e mazivari Quelli buoni Stanno contro ovviamente Peccato che fuori dal sottoterra Sono uguali praticamente E quindi vengono schifati Anche perché mi pare che i draw Tra l'altro non possono Stare sotto la luce del sole Mo non mi ricordo bene Precisamente Perché non sono un manuale vivente Ma tecnicamente Non possono neanche Stare sotto la luce del sole Perché ci hanno svantaggi Problemi E cazzo e mazivari Ancora con qua la scatola Un artefatto Ripata Perché cerchi di Sempre di evitare domande Su quello affare Ma bene Se vuoi parlarne Sono qua Cosa farei dopo Quando tutto questo Sarà finito Ah sì Fai questa potrebbe essere La nostra ultima notte insieme Ecco qua Che vabbè Ho capito Ma che cazzo Sorridi Oga Ci hai parlato tre volte Vuoi pure inzuppare Non il biscotto Le dita Che ne dici Di qualche canzone Intorno al fuoco Con gli altri Vabbè Anche perché l'altra Che gli potevo Di chissà che Cioè se era così facile Facce veramente E cosacce Da che era la fine Ci ho capito Che sta andando a velocizzare tutto Beh non mica deve essere Per forza finita Se possiamo ancora Viaggiare insieme Di lutaio Mi piace come io e Oga Siamo sincronizzati Comunque E' bellissima sta cosa E' fantastica Ben detto Sono una che lascia il segno Tutto bene? Sembra che ci sto provando Però è il fatto che Queste sono molto neutre Perché dipende come le intendi tu Però c'hai anche poi La botta per dirgli No magari non stavo flertando Cioè magari lo stavo Soltanto dicendo effettivamente Questa è una cosa Delle gestioni di dialoghi Senza doppiaggio Che è una figata Ah c'è quella sensazione Quando si riconoscono E' come se si salutano Che figata Fiduciosa Nessun minuscolo girino Avrà la meglio su di me Grazie a tutti bravi questo è come nei videogame no? si è fatto Kratos terzo gioco di God of War si è depotenziato e lui giustamente come abbiamo capito lottava nella guerra gli inferi contro demoni erano me coglioni dici come cazzo è possibile che sto stronzo è di livello 1 è di livello 1 perché il girino dietro al cervello l'ha depotenziato figa come cosa beh c'è qualcosa di speciale in noi o quanto meno nei nostri girini tra l'altro questa è realtà è una roba che se noi avessimo esplorato un po' di più avessimo fatto anche dei tiri buoni su Arkano potevamo leggere sulle varie robe dei girini e cazzi e mazzi vari che in una stanza specifica c'era scritto perfezione o perfetto perché appunto i nostri girini non so so qualcosa di difficiliare miei miei what manner of place is this a path to redemption or a road to damnation hard to say for your journey is just beginning Cosa potrebbe essere la occasione? Hmmmm... The words to a lullaby, perhaps? The mouse smiled brightly. It outfoxed the cat. Then down came the claw. And that? Love. Was that? They do know how to write them in Cormier, don't they? Well met, I am Raphael. Very much at your service. Perché tu sei qua? Con chi sto parlando, il gatto o il topo? Neither. The fox rather. Hiding in a word. A silent observer about to break the silence. Of course. What I have to say merits some privacy as well as some more, let's call it, refinement. This quaint little scene is decidedly too middle of nowhere for my tastes. Come. Meno male che volevo sgozzare della gente io. Complimenti per l'arredamento. The house of hope. Where the tired come to rest. And the famished come to feed. Lavishly. Go on. Partake. Enjoy your supper. After all, it might just be your last. Eh, lo ignoro e mi riempio il piatto di cibo. Not easily rattled, I see. Good. Makes the next part that much more straightforward. Eh. What's better than a devil you don't know? A devil you do. Am I a friend? Potentially. An adversary. Conceivably. But a savior? That's for certain. Come. Questo è un cambion. Questo essenzialmente è il rango diciamo più o meno sopra il tifling. Cioè i tifling nascono da questi esseri che si mischiano umani. E Will ha fatto un patto con una di queste cose. Però questi sono veramente tanto potenti nel senso che schioccano le dita e succede la roba. È letteralmente vendere l'anima al diavolo. Cosa ti fa credere che abbia bisogno di un salvatore? Come now. Why play hard to get. When you're in deep over your tadpold head. One skull. Two tenants. And no solution in sight. I could fix it all. Like that. Tra l'altro in realtà per come si struttura la campagna che magari in cui puoi veramente fallire e trasformarti il bad ending. Cioè a un certo punto potrebbe veramente essere che lui è l'ultimo. Se te puoi parare il culo a un certo punto tutto va di merda. Tu ti ritrovi con o vendi la tua anima o muori. Sarebbe fighissimo se c'è una roba del genere. Sei un folle se credi che stringere un patto con un diavolo. E' quello che è la scena ma un denial di realtà. Ma ancora, ho sentito che ti cambiate la mente prima che ti è cambiato per te. C'essere di curare yourself. Chiare di torno. Chiare di prendere. 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 Dissolvano le sangue che non hanno manifestato ancora, non hanno? Uno potrebbe dire che sei un paragono di successo. Spero qui quando si fuori. Ma perché in realtà questo ragazzi, non so come dirvelo, è il bello anche di D&D. Cioè questo voi potete giocarvelo come cazzo vi pare. Volete giocarvelo sullo stealth, tattici? Potete. Volete giocarvelo cacciaroni da barbari che entrate a gamba tesa? Ok, volete giocarvelo più sociale? Io mi direi la prima volta più che altro di vivervelo come viviente. Perché ovvio che la prima volta che giocherete a un gioco del genere non potete giocare a tutto. Non potrete farlo al 100% perché vi perderete delle cose, ci saranno delle scelte e compagnie. Essendo come D&D ti dà un margine di modo per essere giocato. Come l'altra volta che ho detto, ah cazzo mi sono dimenticato di premere il pulsante. Ho tirato con l'arco sul pulsante una cazzata di idea che ha avuto successo. E quello è bello perché proprio gli sviluppatori l'hanno detto, noi l'abbiamo strutturato proprio come se stessero giocando a D&D. Quindi che ci sono quelle scelte stupide, quel pensare in modo parallelo. Comunque ripeto, non vi fate spaventare da Baldur's Gate perché è veramente fatto per... Allora, ovviamente fatto per qualsiasi player inteso che gli interessa questo genere di giochi. Perché io molte volte quando dico questa cosa sento persone... Ma a me mi fanno cacare gli RPGs, gli RPGs. E allora che cazzo giochi a un RPG? Nel senso, se a me mi fa cacare FIFA non mi vado a comprare FIFA. Dio madonne. Non credo sia una cosa che devo specificare. Però appunto se vi interessa questo genere, la lore, l'ambientazione, anche la coerenza, il poter capire le robe, il poter fare tutto, il poter creare un personaggio, questo è perfetto. Strange power resonates within the corpse. It calls to you. Your limbs move of their own accord. There's something of value here. Something your mind craves. Why let its host's memories go to waste? The tadpole has absorbed it all. Its experience could nourish you, strengthen you. Questo è nuovo, questa è una figata. Puoi assorbire le conoscenze di un altro post. Lasciati guidare dal tuo corpo e accogli l'influenza del girino. Esemplare di parassieta Mindfire. C'era bisogno di spezzargli il collo a sto povero Cristo. Raro, il girino ancora vivo che flutta nella torbida fanghia sembra il cugino imbruttito dalla lumaca, ma rigonfio il reso viscito... Allora, aspetta, facciamo un attimo un test, salviamo. Devo capire che cazzo ci posso fare. Posso mangiare... Un po' è ancora insomma i passi di... La persona che ti fa visita in sogno ti informerà quando sarà il momento. Oh 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 oh. Fammi vedere che c'è dentro. You should leave it. Or even destroy it, if possible. Madonna, è cazzata come una biscia. Potrebbe essere qualcosa di utile, no? This rubbish is an offering to Saluna. At best it's worthless, at worst, who knows, could be cursed. Do not trifle with that moon witch or her trinkets. Only trouble will follow. Comunque tu dovresti mantenere segreto che sei una chiedicata e sharp, ho detto. Lei appena vede Saluna... Puh, puttana bastarda elfica. Appena vede qualcosa. Possiamo abbandonare della roba che è utile? Giustamente, visto che è contro di lei, non posso usare il D4 extra. Misteriosa ferita sharita. Ma è una cosa proprio che gli appare. Non glielo posso chiedere. Gli è risuccessa quella... Ah, forse... Che figata! Mi sa perché ha accettato qualcosa da Salun. È Shar che gli ha fatto male. Perché hai fatto qualcosa che non dovevi, stronza. Stavo dicendo, questo è anche un ottimo esercizio di roleplay per chi vuole giocare a D&D. Perché lei, non abbandonando il proprio personaggio, ha detto, se poi potevi viettalo fatelo che te la vendi per dieci monete. Però non è che ha detto, ok, accetto Salun. Ha detto, quella comunque è una stronza. Al massimo ce le fai due soldini. Andiamo giusto a parlare con Gale perché vedo che c'è una nuvolina. Che c'ha in mano? Ah, mistra. Carina. La figura che ha evocato chi è? Qualcuno che ti manca? Non hai quell'espressione quando non stai guardando nessuno. What can I say? She's... She's mistra. I can't quite describe it. The need I sometimes feel to see her. To draw the filaments of fantasy into existence. No sculptural painting could ever do her justice. Only the fabric that she herself is. And embodies. The weave. Mistra is all magic. Non avevo capito quando è profonda la tua devozione. Magic is... My life. I've been in touch with the weave for as long as I can remember. There's nothing like it. It's like music. Poetry. Physical beauty. All rolled into one and given expression through the senses. Would you like to experience this? Provo volentieri. Then follow my lead. Now you. You mi da il gesto lentamente con la maggiore precisione possibile. You feel something strange. Like a kind word and a kind touch at the same time. It's warm and comfortable. Excellent. Now. Repeat after me. Ah, Thrawn, Mistra, Ril, Kandrak, Eyo. Ma che bella questa scena. Percepisci il potere in quelle parole e pronunciale deliberatamente. Immagina un posto di pace completo, lontano dai maio dal caos della civiltà. You see, or is it sense, the presence of a woman. The woman who hovered over Gail's palm. There's something like the anticipation of a kiss. Then the pleasure of being cloaked in peace. You are safe. You are nestled in the cup of Mistra's hand. You did it. You're channeling the weave. How does it feel? Senza alcuno sforzo, sei un bravo insegnante. Oh, I know. Però non vuoi... No, scusate, ma dai, ma... Lo cock blocco? Inutile che tu mi sorridi così, mi dispiace, zio, non ti cock blocco. No, dai, che era bellissima sta scena, ma è stata bellissima. No, solo dell'umore per essere in intimità con Gail. Ma donna, ma che bella che è stata sta scena. Il fatto è che lui ha creato quell'atmosfera, quel mood, grazie all'amore che prova per Mistra. Mistra è la dea della magia, per farvi sempre da enciclopedia. Cioè, vedete io quando, durante l'inizio della scorsa live, vi dissi... Cioè, Baldur's Gate non è fight. Non è solo danni, dadi. Certo, può essere anche quello, eh. Non è soltanto danni, skill check. È anche questo. Cioè, questa è stata una roba bellissima. Lo scambio anche di interazioni, di tiri e compagnie, si è mangiato quasi tutto Dragon Age 2. Cioè, è questo, è il viversi un personaggio, l'entrare nei panni di un personaggio, il dire no, zio, per quanto è una cosa così bella, io non mi sento a mio agio con te a fare questa roba. Fosse stato uno shadow art, pure una star, non per dire, no? Ho scoperto che si può prendere la competenza negli strumenti senza essere un bardo. Aspettate, dov'è? Ecco perché mi sembrava familiare la regina dell'alto... Ma questa è la musica dei divini, perdonate, l'ho fatto a cazzo. E vi faccio anche un attimo capire se qualcuno vuole la competenza nel bardo con gli strumenti. Vi ricordate la tizia che ci parli, canti, fai le cose? Ecco ragazzi, se invece di aiutarla verbalmente, gli dici passami il liuto e passate tipo due check, mi pare un 15 e un 10, prendete la competenza in tutti gli strumenti. Prima di andare avanti, volevo andare a vedere una cosa, perché riguardandomi le live, c'era quella voce onirica che ci ha detto, oh, guarda dentro quel vascello c'è qualcosa di interessante, però risentendo l'audio, la signorina non dice vascello, dice vessel. Cioè, il fatto, raga, è che noi abbiamo giocato 8 ore, ma Baldur's Gate andrebbe giocato a botte di 8 ore. Cioè, è quello il fatto. Baldur's Gate andrebbe giocato a botte di 8 ore, perché noi siamo veramente al cazzo di inizio. Niente abbiamo fatto, eh. Ma proprio niente, 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 niente. Ma come scherzà? Il nulla. Allora qua lei ha visto un vessel. Ah, forse questo. Diario. Esemplare di parassita Mind Flayer. Perché come ci ha detto la volta scorsa, non si vuole far controllare. Forse ci deve partire in Akatsin. La creature's eyes roll back in its head, equal parts bliss and agony. She'd eaten, feasted, and yet, looking into her eyes, you can see it wasn't enough. She's still hungry. Come, see, my flesh becomes new flesh. You hear what comes next before you see it, the sharp snapping of bones and a yelp of pain as her body starts to twist and undulate. You watch with cold realization. This isn't the end of one life, but the start of another. Perché gli gnol? Vicious, monstrous humanoid can spawn from the corpses of dying hyenas. Ha fatto la... ha fatto la narratrice, non l'ho dovuto neanche spiegare io. Però, madonna, che belli, gli gnol. Madonna, madonna, che belli. Tanto mi sa che non ho mai fatto questo dialogo col parlare con gli animali, quindi effettivamente ti parlano, giustamente. Vabbè, colpisci la bestia finché è vulnerabile. You land a swift strike against her skull. She yelps. Then goes still. As the life fades from her eyes, the gnoll within her dies too. still born. Dove scappi? Madonna, che bella però anche questa esteticamente. Tocca da Starion. Devi eliminare quella hyena di merda. In realtà dovremmo farci prima quest'altra perché ci hanno fame di hyena, o come cazzo si chiama, insomma, si stanno per trasformare. Gli gnol sono essenzialmente hyena e hyena e mostruose. Cioè, tu immagina della hyena che si trasforma in mostruosità, quindi sono bipedi, hanno pure loro delle sorte di piccole società e compagnia. Questa povera niente ne così sta per trasformare una bestia di satana maligna. Tacco con vantaggio? Sì, ci facciamo una hyena. Andiamo con calma. In ira, prima di tutto. Micchia quanto pesa. Caputana, allora vai. Devo trovarmi uno spadone appena posso perché questa non è un'arma per me. Stiamo tirando di merda come al solito. Non ci sta un cazzo da fare. Tu stai andando a chiamare gli gnol, puttana. Guardate, vedete gli gnol. Ecco gli gnol. Guardate che belli, madonna che figli esteticamente. Tu sei ancora in furtività? Sì, allora attacco furtivo su quello gnol di merda. Porca madonna. Neko che cosa dicevi poco fa? Mi hai mandato il malocchio, dillo. Almeno questa. Oh, su uno ce l'abbiamo fatta. Allora, quanto sta lontana la merda? Prendi le frattaglie e tiragliele, vai. Vediamo quanto gli fanno male le frattaglie, ragazzi. L'ho buttato prono. Questo invece è quello appena trasformato. Tutto sanguinolento, senza pelo. E compagnia, c'hai 20 HP, figlio di puttana. Sta andando tutto in vacca, Neko. Secondo me, veramente sì. Quanto sarà profondo di qua, ragazzi? Evoca, che cazzo ne so? Una lancia spirituale laggiù. Tocca allo stronzo qua sotto. Ma che cazzo vuoi? Ma rimani là, merda. Eh, questo ci metterà un po' a riva. Ecco, bravi, attaccate la lancia. Bravi, bravi. Oh, ma questa iena di merda c'ha poca vita. Prendi sta iena bastarda e tirala là. Porca puttana. Quanto mi piace il barbaro. Perché può prendere le persone la sciottata. L'attacco irruento. Oga manca. Ho fatto con vantaggio 6. Astadion, vieni qua a uccidere st'ultimo figlio di puttana. Che questo è nato da due minuti, già deve rompere i coglioni. Finiscilo. Vaffanculo, almeno Astadion c'è chiappa. E venite, menateme. Fate pure danni da veleno. Tra l'altro, una cosa bellissima, se giocate con i vostri amici, vedete questa cosa in alto? Vuol dire che abbiamo tutti il turno insieme. Se capita questa cosa, non è che voi dovete aspettare il vostro amico che fa le robe. Potete muovervi simultaneamente. Quella è una roba molto, molto figa. Questo non è un tiro per colpire. Oh, cadete per terra. Merde. Siamo sullo stesso piano. Ok. La 1 ce lo siamo fatto, dai. Acchiappa proiettili. Zero danni, attenzione. E allora sai che ti dico, utilizzi proprio tutta, tutta la tua azione per fare doppio scatto. Allora, stanno per terra. Se adesso nulli prende... Vabbè, ho capito, raga. Mi serve uno spadone. Devo uccidere qualcuno e rubarmi uno spadone. Gail, avvicinati. Usa coltello di ghiaccio, che è un coltello che è tirato e fa un'esplosione. Vai. Questo è un tiro salvezza. Così non devono fare le robe. L'altro l'ha passato, pezzo di merda. E tanto prima o poi i dati devono cominciare a girare pure di qua, no? Questo fight dovrebbe essere una cagata. Sta durando sette anni. Eh, ci mancava che lo mancavi da veramente addormentato a stadion. Ci mancava. Che cazzo di parto. È andato tutto male, raga. Ho una spada lunga. Sì, ho capito. Poi non posso andare in giro in abiti civili, però. Vabbè, andrò in giro, ragazzi, un attimo in intimo. Perdonatemi. Però mi dà fastidio che non mi si vede la roba addosso. Che non mi si vede lo spadone. Ci saranno dei panni di merda da qualche parte, no? Ce l'hai delle mutande? Baguette, sacco di iuta, sacco di iuta. Nell'armadio magari c'è qualcosa. Un cappello a testa larga. Questo è per i maghi? Mettiamola a Gale. Che bello, madonna. Oh, sì, due di sei, sì. Un'armatura leggera. Per adesso mettiti questa. Io sto depredando. Voi immaginiamo di roleplay. Quindi, vedete, sta tifling enorme, nuda. Che corre dalla macchia. Mi ricorda molto che era, forse. L'inizio dell'uomo d'acciaio. Che c'è lui nudo, che si va a fotter i panni in giro. Come vi ho detto in inizio, Carla è questa famosissima tifling, combattente della guerra infernale, che ha al posto del cuore un motore demoniaco. Questi fori, che vedete sulla pelle, sono letteralmente i tubi di scappamento. Ma allora quanto cazzo è bella però lei. Ma proprio inteso di design, no? C'è sto donnone tifling, questi fori qua che gli fanno da tubo di scappamento per il motore. Lei che è in fiamme perché è talmente calda per il motore demoniaco che è qualcosa di devastante. Tu sei la diavolessa a cui stavamo dando la caccia, Carlac, giusto? Come si vedi la caccia, Carlac. E' un'escalante. E' un'escalante. E' un'escalante. E' un'escalante. Zariel's army. I can explain, but it's a whole situation. If you just hear me out... Another vision. Karlaq's blade raised, slicing through devils, Zariel's servants, as her eyes dart around, seeking escape. Her rage and desperation seep into you. She's a victim of the blood war. Not an agent of it. She's trying to trick us. Don't believe her lies. You saw the truth. I never wanted to serve Zariel. I was enlisted in her army against my will. Forced to fight, and fight I did. When I saw an opportunity to get away, I took it. Finally home. Or near it anyway. You served her. That's enough to damn you. È spezzato, nego. Ma infatti se voi la vedete proprio, lei è tutta piena dei cicatrici, bruciature, cornarotte. Perché lei è una servitrice di Zariel. Cioè lei, una diavolessa, l'ha presa e ha detto tu sei mia e l'ha messa in prima linea in questa guerra infinita che ci sta giù ad Avernus a combattere all'infinito. Cioè questa è una macchina. È un car armato. Ma il bello, sapete qual è? Perché per farvi anche capire il mood di Karlaq, è anche una coccolona. Cioè proprio sapete quel classico esempio di Barbaro che è tutto scherzoso, che fa facchiea, però che è anche coccolone. Ed è bellissimo perché lei, non so tra l'altro se c'erano anche negli altri Baldur's Gate, ma lei è proprio un personaggio molto tormentato. Sì esatto, in parte Will stai zitto. Io da una parte posso capirlo Will. Perché comunque raga, lui, ripeto, è un warlock. Cioè se il tuo padrone ti dice fai sta cosa, devi falla. Perché se no te scrocchia in me. Poi dice, potrebbe staccia ingannare, ma secondo te una Tifling da Avernus sa già usare il parassita in modo da fregatte e abbassa le armi Will. Hai visto quello che ho visto io? Ma peccato, ma lei ti pare una diavolessa, Dio Cristo, ma sei d'incoglionito. Per gli dèi sei davvero testardo, non è una diavolessa, lo sai bene. Sì. Listen to sense now. I don't want this to end badly for either of us. You know monsters, right? Better than anyone. Look into my eyes. Can't you see I'm not what you think? Shit. You really are no devil, are you? I've... I've been deceived. Madonna raga Però Carlack è proprio be... Shadward Io te lo dico eh Con tutto l'amore del creato Ma stai probabilmente molto a rischio Vedo che tra l'altro tutti in giata stanno apprezzando Carlack Perché i diavoli per dirvi Sono come Raphael Cioè sono quelli Lei è una tifling E semplicemente che è potenziata Che è modificata E compagnia E sì nego letteralmente Cioè lei questo fuoco che gli vedete attorno È perché il suo motore al di fuori E di Avernus dell'inferno Comincia a fare malfunzionamento Cioè lei sta letteralmente prendendo fuoco E gli fa male eh Cioè lei sta costantemente in pena Povera bella Sonoga Sariel L'archdevil Herself Mi ha fatto come Il suo personale Attacca Io spaventavo Sì 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 Ma i devoli Non like Per perdere I loro Assetti Sariel Mi ha piaciuto Tanto Troppo Ha sentito Un po' di gooni I so-called paladini Di teare Per prendermi Il problema È Non 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 Ho fatto anche il momento Con Astarion Che ti vuole mozzicare al collo E giustamente Lei la ferma E dice Bro Se mi mozzichi il collo Tu non hai più i denti E le labbra Te lo dico Oga diventa Salvini La prima opzione Ripeto Rispediamo Ruspa Partono tutte Rispediamoli a casa loro Oga non fare quella faccia Adesso siamo desincronizzate Mi sembra un ottimo piano Oh Vuoi proprio venire tu a fare sta roba È il Wilto che c'hai da dire Qualcuno ti ha messo alle calcagno di Carla Che vorrei sapere Che Intrigante Un'occasione per vedere la lama in imbarazzo Forse You don't know the half of it Hellfire She's coming Will You've been naughty And you know what happens When you're naughty God damn it Anyone but her Ho il notare come lo stesso sguardo Vabbè raga Ma che cazzo vogliamo parlare Ovvio che sono tutti fighi Jorak Nel senso Diavoli Tifling E compagnia Il diavolo non a caso È sempre molto provocante Nel senso Porca puttana Bene bene Tu si che sei stuzzicante You flatterer You flatterer Pleasant shits than you Misora And at least those can be buried after That's no kind of talk for a lady Karlak Karlak meets the criteria Pert Trust me on this Perché tra l'altro Quando si dice di fare un contratto È veramente un contratto Cioè c'è sta scritto Veramente Vita, morte e miracoli De quello che puoi fare Che non puoi fare E compagnia Ed è una cosa tra l'altro Che ti vincola proprio Nell'anima Cioè non è Il contratto di Lo strappo Va fanculo Arriva al punto Cosa vuoi The point Oh yes Thanks for the reminder Will burns in the fires of Avernus The lightning storms of Dis Strike his flesh His soul passes through each layer of the hells Gaining their essence And their torment That's better What the hells have you done? Eh A promise broken A price paid You know the terms Get used to the new form Pet There's no going back Some magic Even I can't undo Now Let's see how the frontiers fare Without their precious blade Karlak Keep an eye on him Would you? I'll be keeping mine On you Oh and will Don't forget Our pack still stands Tata Cazzo l'ha fatto diventare un diavolo Non è che ve lo devo star di Ma ovviamente i diavoli Già un tiefling viene visto male Maggiore se siete un diavolo È la fine Will tutto bene? God damn her Straight back to the hells Just look at me I did what was right And Mazora made me pay for it I'd be hunting devils and demons She said Traitors and hypocrites Heartless evils of all sorts But not Not Zareel's victims Not innocent tieflings Tiero Salvezza è fallito addirittura I deserve that Consider me properly shamed It's Mazora who grants me the power To conjure armor And cast eldritch blasts Before I was infected I could even call hellbeasts And summon festering clouds But I promise you Every thrust of my blade And every flame I sparked Was for the good of the coast Questo in realtà è anche Mostra molto bene Come anche ruolare Un warlock Perché molte volte Il ruolo del warlock Anche in D&D Viene preso molto sotto gamba Cioè viene preso come quello Che dice Ho fatto un patto con un'entità Però Mentre appunto È una cosa molto più greve Nella realtà De quanto è Perché tu Essenzialmente Se il tuo padrone ti dice Vai e stermina una città Tu devi andare E a sterminare una città Il fatto di diventare un warlock Ti dà poteri e tutto quanto Ma ti dà anche degli obblighi E molte volte non belle E come sei rimasto convolto Con Mizzora per gli inferi Ah The one little question That put me out of house and home I can't utter the terms Or circumstances of the pact I can tell you most all else But the pact I'm forbidden Unless Mizzora permits it But I'll say this The moment I pacted myself to Mizzora I have not regretted for a heartbeat It was my proudest deed It was worth the sacrifice All I can give you on that Is my solemn word Tra l'altro c'ha un occhio nero Perché l'altro è un occhio di pietra finto L'occhio gli è diventato nero e rosso Perché è diventato proprio un demone No ma tecnicamente ce l'ha ancora il patto Perché Mizzora gli ha detto Zio guarda c'è sta ancora il patto Non ti fa venire brutte idee Fammi vedere Allora Stadion Falla veloce Perché io vedete Poi dite perché 8 ore E siamo ancora all'inizio Dio madonna Fai un passo 18 dialoghi Bello per carità Ti stacco le palle Ma comunque Il momento in cui mi hai morso I've had this condition For two centuries But Truth be told You were my first In all these years I've only ever fed on beasts Drinking the blood of Thinking creatures Is a different thing entirely You were delectable And now I can't help But wonder how the others taste Perché giustamente Casador gli dava da mangiare i topi A carne marcia Cioè queste cose così Allora Stai già guardando gli altri Così mi ferisci Don't worry There's enough of me to go around I'm a man of tremendous appetites I don't think they'd volunteer Of course But it doesn't make me Any less curious Take Gale For example He strikes me As someone whose blood is rich Refined like Well aged brandy But the gift Perché stiamo facendo una discussione sulla degustazione di sangue dei nostri compagni Sta chiedendo Oga la sua mente Paresemente in questo momento Qualcosa di esotico sicuramente Tipo un liquore di ham Oh Well that sounds very appealing I'm almost convinced Le devo sgozzare? È ancora teorico vero? Absolutely A mere thought experiment So In the spirit of theoretical questions If you had to take a bite from one of them Who would it be? Allora io sarei in realtà attentato veramente di Carlack Ma non tanto perché Waifu Ma perché tipo Chissà che cazzo si prova nel bere il sangue Di una che c'ha un motore demoniaco Io rischierei con Carlack A brave choice Although The more I think on it The hungrier I get I better go find something I can actually get my teeth into Buona caccia There's nothing that tasty lurking out in the woods But I'll make do Sweet dreams Tu stanotte non mi accolte Non mi mozichi il collo Vero pezzo di merda Oh mio dio c'è scratch Graffio Graffio aspetta Aspetta che parliamo subito Graffio Mi dispiace per quello che è successo Sotto padrone Approvano a tutti Approvazione generale Oh che bello Madonna Madonna Fa un po' potatone Eh Andiamo Andate in furtività Perché ce li scop... Fortissimo questi ragazzi È troppo volgare Ce li facciamo fortissimo Astarion passa qua E chiudi sta porta maledetta Tu Passa da di qua Astarion vai da sopra Che te li fai fortissimo Vorrei far partire il dialogo Con loro due Perché voglio che la vedano Karlak Ma poi che bello Che si vedono le costole qua Si vede le ossa da sotto Perché c'è il cuore che pulsa Cioè guardate che Che bella Sta roba qua Dio Cristo Servo alla sua postura Il suo sguardo Sta dicendo la verità Perfetto Chissà se cambiano le frasi In base a quanto la su... Perché io mi ricordo Che qua molto volte Mi dice guarda Sta di palesemente Una cazzata Però magari adesso Mi ha detto sta cosa Perché ho fatto undici Fammi commerciare prima Scusi eh Fa vedere Ah c'è niente Eh basta con questa Basta con questa farza So sì Che so chi sei veramente Porca puttana Ma mi sa che ha fatto Quella cosa che avevo detto Ah no è solo Incazzata come una vaina No raga Mi sto innamorato Di Carlac Strong Waifu Tifling Bellissima Tanto sembra Oga Effettivamente perché Tipo Oga Quando tocca a noi Adesso Ok adesso che ci sta Un po' di pace Dei sensi Spostati laggiù tu Cuoro scuro Vatti a fare questa signorina Nascondersi con successo Brava Muore Su cabliet E tanto posso rientrare Anche in furtività Perché hanno modificato La furtività Ed è una figata Se riuscite Potete farla Veramente L'assassino Cioè potete fare Una roba che va in giro Uccide e rimane in furtività È una figata assurda Questa Andiamo da Starion Vedi quel paladino Te lo devi fare Te lo devi fare fortissimo 44 HP Carlac Sai la cosa chiamata ira Ma cambia l'effetto Ha fatto un effetto Di un alce Che strillava Ma che cazzo Stai a di Ma posso prenderla La scrivania Per tiraglielo No peccato È troppo Troppo Però posso prendere Il candelabrio Vieni qua Madonna tiraglielo Becca L'ho mancato Va bene lo stesso Va bene lo stesso Volevo fare una cazzata A Starion Tiragli un mozzichetto D'amico Così sei felice No? C'hai un più uno Fino al prossimo Long rest Attacco di opportunità Si chiama questo Pezzo di merda Eh sei un po' debole As Ragazzi Questo è Affrontare un livello 5 Al livello 3 Paladino di livello 5 C'ha multi attack C'ha divin smite C'ha pomello sui denti Eeeh Questa è la fine Che fate Eh in D&D si Allora in realtà Va molto A scaglioni Cioè perché se qua Noi fossimo stare Tipo di livello 5 E lui di livello 7 Si si sentiva Ma non così tanto Perché lui c'ha un vantaggio Chiamato C'ha multi attack C'è Ergo Lui ti può fare due colpi Entrambi con smite E poi c'ha pure L'azione bonus È quella la Differenza Oga Inira pure tu Reckless Ovviamente Così te impari A toccare La mia waifu Tu c'hai ancora L'azione No Però ti puoi avvicinare Qua a fare Una parola guaritrice Su Karlak Così si rialza E in questa In caso se ne va Rimaniamo qua insieme Cucciolina Dipende l'attacco D'opportunità Sapete perché sto scattando Perché questa è una Halfling ragazzi Ergo è leggera Vediamo se c'è qualcosa Su cui posso Scaraventarla Che gli fa male Vai verso Shadward Una bastarda Sta per fare Quella cosa che vi avevo detto Sta per prendere fuoco E distrugge tutto Usare non si avvicinerà più a te Ce ne assicureremo Eccola qua Uscite Tutti Uscite tutti Da sto posto Bonnie Adesso lei andrà avanti Per otto turni Così Oga Oga se ne era Era salita Ha detto Ma chi cazzo Mo va a fare Uscite Ho dovuto lasciare un po' di acqua Dopo avversare Con questi Ignot Ho scattato Il cibo Stava un po' di lungo Che si dovrebbe Come mi sembra Immaginò che Sarà arrampicata Sua scala Porca puttana Così Ti saresti dovuta Sciogliere parecchio Tempo fa Come fai a sopportare Quel calore Honey Io potrei andare All'night Scusa Scusa Inferno 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 Per un cuore Ma io mi uscinerai Anche il buco Del c***o Da avvicinarmi Non so se l'hai capito Cioè io Guarda Tutto Sai Deadpool Non mi ferma niente Puoi anche darmi fuoco Al c***o Io vado Dritto Come una freccia Troppo 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 Hai un meccanico Per il cuore Ebbè Quelli rintanati Nel boschetto Ma questo altro Che mi sfonda Mi rende un kebab Vivente Mi metto su uno spiedo Comenzo a girare brutalmente Metà cento dopo La live Carla E adesso E adesso che hai finito E adesso che hai finito di dare fuoco A tutto quanto Vai a luttare il paladino Ma tanto io Non l'ho detto Ragà Ma quanti danni ti ho fatto Tirandola Cioè l'ho tipo aperta Ma l'ho spaccata male Subisce 11 danni Minchia L'ho tirata E gli ho fatto più danni Che con una pizza normale E che c***o L'ho schiantata Contro il muro Ti manca vedere il tuo volto Non so se te conviene Vederti in questo momento Perché sei ricoperto da capo A collo di sangue Sta pensando ora Di che colore erano prima? E' un'altra cosa che ho perduto Madonna però Poverino Beh giustamente Diciamo che il nostro party N'è che c'è proprio come al solito Party di D&D standard Guarda lo fisso negli occhi Prendendo nota Di ogni dettaglio Del suo viso Sarò io il tuo specchio Cosa vuoi sapere? Voglio sapere Cosa il mondo Sì Quando mi guarda Cosa tu vedi? Il tuo neo attira sicuramente La mia attenzione Beh diciamo Occhi intensi E penetranti Perché comunque Gli occhi rossi da stare Sono belli Ma che c***o ci devo dire? Il sorriso pericoloso Ma stare Non so se la sai sta cosa Ma tecnicamente I complimenti Non vanno chiesti Sei accettabile Cuoro scuro invece Quella sì Che è una bellezza La musica è molto molto bella Sì ma le host in generale Sono bellissime Tra l'altro io è una cosa Che sto facendo poco Ma sappiate Che intrattenere È una cosa Che durante i combattimenti È un'azione gratis Ergo voi potete farla Perché sì Vediamo se si avvicinano Questa è la musica Sì sì Andatevene a dormire Merde Grazie Non dovete Datemi le rose più tardi Ma non lanciate le monete Questo è sotto il party Mi pagate con i miei stessi soldi Ma andatevene a fanculo Mi danno le mie stesse monete Che c***o vuol dire? Sangue Gnoll Ma Questi sono della lettera Che abbiamo letto A inizio live Ma ma fa botte con dei gnoll Eh Dieci danni Ma scusa Ma da che livello siete? Stronzi Da livello 4 Qua che ci abbiamo? Flind Questo è livello 5 Addirittura Questo invece lo facciamo di livello 2 E ti fai lo gnol cacciatore Puoi fare spruzzo color a Ah minchia ma è molto piccolo il cono Piano che sennò ti aprono il culo Così ne accechiamo uno Madonna tutti vicini Sì Mettetevi tutti vicini Dio Cristo Mi sono appena ricordato Che ho comprato una cosa molto interessante Madonna Ho garrollato Zero Come cazzo è possibile? Madonna No userò la magia più forte di tutti Star Bomba a mano Quella sì che è imbattibile Madonna aprilo 17 danni buoni come loro Dove cazzo vai tu? Sì si ha detto Guarda prenda la strada più lunga Oga Azione lancio Bomba di polvere nera 3 di 4 più 9 Alla Ci infiliamo qua in mezzo A pack leader's mind clamps onto yours You see yourself through her eyes A pulsing red cluster of organs Feast Cerca nella sua mente L'origine della voce A memory The beast Dorps the symbol of the absolute On a cave wall In blood Very deep A tadpole Struggles to assert control Against the ravenous chaos Of her mind Ah ce l'ha anche lei Il girino O lui O che cazzo è Il sto gnolo Allora io In realtà Ero molto titubante su questa cosa Ma penso che li utilizzeremo i poteri Non tanto per una questione di roleplay Ma anche forse per quello Perché sono molto potenti Ma proprio perché è la peculiarità No? È l'ombriù tra virgolettoni Di Baldur's Gate Quindi voglio anche mostrarvela sta roba Fate parte dello stesso branco Divora gli altri Sensing your presence The gnoll's tadpole writhes in ecstasy Echoing your command Its host will feast on gnoll flesh To control the hunger To keep her teeth From your throat A shiver runs across your mind You feel sated Quindi flint Diventato nostro Chegata E meno male Appena ha fatto 26 danni con una pizza Porca puttana Ma meno male che sta con noi Acchiappa proiettili Zero danni Su cablet Allora Questo te lo fa easy Porca madonna A starion però Voglio spingere sta Vacca bastarda lontano Ovviamente no I dad dicono niente O qui oggi sto tirando Niente di merda Nei combattimenti eh Cioè Carla ha cattirato bene Pure voi neanche scherzate oggi Corri su che ci sta la nostra cara iena bastarda Di qua Spiuttar di Yemeniamo A meno che non possiamo fargli qualcosa Ma puoi si pingerla Vediamo se la costringo ad utilizzare tutto il suo movimento Però no Mi sa che una iena ce l'ha per forza 9 metri di movimento Eh beh Anzi ci avrà tipo 40 feet Mi prendo l'attacco d'opportunità Sì Però sti cavoli Perché io devo andare a menare sti cazzo tarcieri Fagli l'altro attacco Grazie che ci sei tu Flynn La iena bastarda Eh L'attacchiamo normalmente A stare Vuoi shottarla sta iena bastarda Per favore Grazie Ce l'hai fatta finalmente Preparare Sacrifica 6 metri Della tua velocità di movimento Per infliggere 3 danni taglienti extra Con la tua arma da mischia In questo turno Bellissimo Subito Preparato allora Buongiorno Madonna 21 danni Oga dai Almeno finiamolo con stile Sto cazzo di round Dai Domina la sua mente Ordinando di banchettare Con le sue stesse carni Visto come è andata Finale adesso Io non so quanto sia Fattibile sta cosa Ah Però no La uso l'ispirazione La ritiriamo Se rifaccio uno Non me ne frega un cazzo Va bene così Cioè se faccio fallimento Uno E poi faccio snake eye Per chi non lo sapesse Doppio uno Perché sembra gli occhi del serpente Senti Fatte un affanculo Sì Madonna Perché ero curioso di vedere Se c'aveva qualche C'ho una capioga C'ero curioso di vedere Se magari c'aveva qualche Animazione unica Quelle robe così E invece Vedete come si dice sempre ragazzi I dadi Governano Se il dado ha detto di no Ha detto di no Però ci saranno anche i momenti In cui dirà di sì E quei momenti saranno belli Meno male che Carlac può stare in furtività Vedi Gnol bastardo 85 HP Dio Cristo Vai pure tu Siamo due tifling Vai Attacco il ruento Merda Eh se chiamano attacchi d'opportunità E ho capito Vai giù Dio Cristo Madonna si è tangato Che cazzo Ma vattene a Fangulino Vai in furtività Starian Madonna fagli sto crit sui denti Pezzo di merda E che cazzo Di che cosa sei fatto Vai in ira Oga Dio madonna È un toro Sto gnol È di attacco Il ruento Eh schieva Fangule Tanto devi morire Prima o poi No pezzo di merda No Perché stai parlando Con Carlac No È un brutto spettacolo È molto lontano Dove siete diretti Cosa state trasportando Cosa state trasportando Trinkets For some rich tosser In Baldur's Gate He gets his Shiny baubles We get a handful Of Tarenths Tarenths Are the currency Of the Zentarim A network Of merchants And mercenaries With few Scruples Beh sei uno Zentarim Gli Zentarim Non trattano Gingilli Stai veramente Minacciando Un gruppo D'avventuri Mamma mia Ragazzi Stavo qua Dietro In sfondo Con quegli occhi Neri Che lo sta guardando Ma voi state Veramente Minacciando Un gruppo D'avventurieri Che ha appena Sterminato Un branco Dei gnolli Incazzati Come delle faine Non siete Molto intelligenti Però vedete Questa è una cosa Che un po' Mi dispiace Perché gli NPC Parlano sempre Con il personaggio Più a portata E questa è una roba Che è un po' Un peccato Perché Cioè se io Ho creato Oga Ho scelto di giocare Nei panni di Astarion Di Shadowheart E compagnia Non andare a parlare Con un altro NPC Fai che Se deve partire Il dialogo Parte Con Il protagonista Cioè con Il personaggio Uno Chiamiamolo così Perché se no Qua io Sto rolando Molto Come se fosse Oga Barbaro Intimidire Che basta parole O mi dai il carico O mi prendo La tua testa Karlak è comunque Un barbaro Quindi immagino Che non si faccia Mettere i piedi in testa E visto che T'ho parato il culo E sta a fare pure La merda Ci proviamo Vedete quando vi dico Che i dati sanno Che i dati girano 20 nut Zio tu non so Non so se hai capito Che se sei veramente Che se sei veramente Degli zentari Mettorni Dicendo questa cosa Tu sei morto Non so se hai capito L'antifona Tu sei morto Tra l'altro Sta stronza De una iena Mi diceva Che c'aveva pure Lei il parassita Sì Esemplare Di parassita Vedete ma questi Che cazzo Raga Cioè è raro È giallo E questa è una roba Importante Mazzafrosto Frantumato Dono di Yinuf O Yinug Come cazzo Si dice qua la roba Quando colpisci un nemico Con quest'arma Ti curi di un di sei Punti ferita Se non colpisci un nemico Ogni turno Potresti impazzire Ostile a chiunque Nelle vicinanze Tra l'altro È una arma Più due Quindi vuol dire Che fa più due Sia i tiri per colpire Che i danni Ragazzi Sempre per fare un po' Tutorial per quanto Quindi qua sotto Ci dovrebbe essere Ah quello Cassaforte della carovana Esatto I dadi sanno Ricordate sempre Vi daranno una mano Quando vi serve Ercano Esamina l'ampolla C'ho meno uno I dadi sanno Che Oga Non sa un cazzo Di Ercano L'accetto Si che togli il tappo Rimetti la molla Tra le cose Sappiate ragazzi Che le avventure Sono fatte Non solo di successi Ma anche di fallimenti Cosa hai fallito Nel percepire Ah una trappola La disattiva Oga Questa è come Sulle mie sessioni Vediamo se si fa saltare Le dita Oga Che disattiva Piano piano Perfetti E questo è chiuso Vabbè dai Prova anche a scassinare Usiamo un altro Nese da scasso Noi ce ne abbiamo parecchi Astarion Astarion Vieni qua Pesso di merda Di un elfo Bastardo Anche Astarion Fa uno Vuol dire che io Prendo la cassa La lancio Nel dirufo Ragazzi Sì L'abbiamo scassinata Perché Cristo Ha dato un bacetto In fronte A Astarion Perché se no Non si faceva Mo dentro ci stanno Dieci monete Oh Morsa della ragione Quando termini Volontariamente La tua ira Ottieni 15 punti Questo è per il barbaro Mettili I thought I sensed An inferno Around here But you aren't From Eltarell What's your story? I spent a good bit Of time in the hells Enlisted against my will By the archdevil Zariel Same as you I suppose If you're from Eltarell The devils Were delighted When your city Was swallowed up I thought they had You for keeps Glad you got out I got lucky It looks like You did too And You brought some Infernal machinery With you A little gift From Zariel Keeps me burning hot Very hot By the smell of it Might be burning out A piston ring Or Linking oil Mind if I take a listen? Be my guest But don't get too close Or your eyes Will melt shut But you You really are burning up Whoever put that engine together Tried to house Metallurgized Demono valves Inside a Ragnax Allocator Very risky I might be able to help But I'd need Infernal iron And a prayer That my hammer Will survive the work That thing Isn't meant to operate Outside of Ernest I'm not sure How much longer It'll keep running The way it's going Will you be able To turn down And the temperature A little Worried I'm gonna go in For a handshake And singe someone's Arm off One of these days I'd worry about Surviving the night First But help one Help both If we can call you off It'll stabilize your engine And allow you to touch Whomever you please E dove dovremmo Cercare il ferro infernale I've sensed some During our travels It has a A pull to it Absolutely magnetic Once you know What you're looking for I can show you Where I'd look Vabbè dai Ma io la voglio aiutà Carla Madonna Subito per fare I pezzi di merda Figata Quanto mi piacciono I goblin Peccato che non li puoi creare So che siete lì Venite fuori Non voglio guai Comunque la narratrice È proprio bella Come parla No dai Usiamo il parassita Mi chiama comunque Un chiedico Addirittura Con il parassita È qualcosa di sgravo Perché vanno su saggezza Sti diri Bello come Carla Che in realtà Voleva uscire da Avernus Per vivere la sua vita E si è ritrovata E mischiata a sto casino Con il parassita E tutto quanto Che tanto Una cosa che poche persone sanno È che in realtà Voi potete anche Muovervi in modo verticale Se tenete premuto shift Voi potete arrampicarvi Sopra le casse Le cose E quindi fare tipo Leppa Stato su questa forgia Ci torneremo parecchie volte Perché serve per un sacco Di cosettine belle Campione metallo Durezza 9.5 Molto duro Punto di fusione sconosciuto Colore argento Striature rosse Punteggiatore di polvere gialla Origine underdark Dono di censura Odore leggermente sul furo La forgia donna Non ha avuto successo Non si fonde Nessi deforma Temperature standard State scrivendo Il ferro infernale Perché questa roba Serve essenzialmente Per fare il motore Che c'ha nel cuore Karlak Che è caldo È leggermente caldo Ho trovato Il ferro infernale Di cui parlavi Per favore Lasciò questo funzionare Mmm Il pesco E il caos Non posso immaginare Questo Oltre il mio cervello Deve essere L'esperienza Dicami un momento Eh ma qua Non potrai mai Lavorarlo A stento Puoi fare L'armatura E le armi There You'll have to install I'm afraid I don't think There are thick Enough gloves In all the realms To protect From that kind of heat Could be If the combustion chamber Had its own insulation Or if we had Some kind of enchanted Coolant Find me again In Baldur's Gate Troviamo qualche cattivone Da farti prendere a schiaffio Allora Madonna quanto L'adoro Karlak Allora Questa sarà difficile Ma in realtà Se siamo bravi Si possono fare Delle porchettonate Ce la possiamo Semplificare molto Perché abbiamo letto Che in queste gallerie Oltre ai ragni C'è una matriarca Ragno fase Di livello 5 Matriarca Che Dio Ce la mandi buona Perché io qua So un po' Essenzialmente ci sono Queste uova di ragno fase Che la nostra cara matriarca Come potrete intuire Può chiudere Tu hai Gli stivali del ragno Quindi puoi fartela Zitta zitta Schisci schisci E non so se hanno migliorato Così tanto la furtività In realtà Vorrei fare un test Però non lo so Mi fido del gioco ragazzi Posso farlo Finché non entro Nel cono di visione Sono invisibile Le prime uova Ce le siamo fatte Lì ce ne stanno altre Madonna mia Quanto cazzo Sei grande Dio Cristo Che schifo La sotto Oppure ce ne stanno altre Ci stanno pure Due ragni fase Però io mi sono portato In realtà Apposta una cosa Carlac Tu scendi giù Vi ricordate Ho preso un barilotto esplosivo Chissà se tirandolo Se rompe Speriamo De no Non si è rotto Che culo Mi immaginavo un ragno Che se girava Mi apriva il culo Fortissimo Cuoro scuro Si deve infilare Di qua Noi dobbiamo fare La trappola a lui Ho qualcosa di esplosivo C'ho il fuoco Dell'alchimista Effettivamente Siamo per entrare in azione Ragazzi Siete pronti a morire Tutti male Oga Fuoco dell'alchimista Sul ragno Bastardo Entriamo in fight Così Vedete come Non cade ancora Perché ci sarà il mondo Questa è una cosa Della furtività Che adoro Carlac Pure tu Boom boom Va bene Carlac Dato un po' Una merda Va bene Ok Tocca ancora a noi Eccoli qua i ragnetti Bastardi Io volevo evitare Proprio sta porchettonata Va bene dai Poteva andare meglio Ma neanche così Peggio anche perché I ragni bastardi Stanno vicini Quanta vita c'hanno Affanculo Ma che perché Quella stava cadendo Nel vuoto Che cazzo Si teletrasporta via La bastarda Si teletrasporta via Ma te pare Sotto ci sta solo un ragno Ma infatti perché Non ha fatto la sorpresa Tecnicamente ho fatto esplodere Una roba in testa Un ragno Alla fine Speriamo che è così Tonta Da farsi Aggrare Da Shadowheart Perché se è così Tonta O anche da Starion Perché possiamo sfruttarla Per farla cadere di sotto Ce l'hai in giavellotto No c'hai visione dell'assoluta Che fa Infiggi due Di sei extra Perforanti Alle creature con più occhi Ovvero tu brutta vacca Becca Certo me ne sono andato qua sopra Ne è propriamente Furba come cosa Tu spacca sto ragno Bastardo Cazzo ho fatto uno Dai Ma uno con vantaggio Che cazzo mi deve vuol dire Ho fatto Snake Eye Oh piccoli cuccioli Ok voi andate da Starion La mamma Non vi conviene Venire tutti qua Ok Ha fatto 20 danni Oga sta per morire male Però lo farà con stile Ragazzi E che cado solo io Merda Che bella però come scena Immagino questa che si taglia Da sotto Da sola Scendi anche tu Intanto a Starion Vai Imitiamo Oga Questo è un piano da cazzo di suicidi Attacco il ruento Ma dai Madonna mia Ma che cazzo Minchia la matriarca Fa malissimo 17 danni Sono boato Ok L'altro ragno Ce lo siamo torto dalle palle Tecnicamente ce l'avrà Una distanza limite no Tu scattando fino a dove Puoi arrivare a Starion Però magari puoi fare questo Perché devo riportare in piedi Oga Una pozione della guarigione Dimmi che ce la tiri fin qua Mamma mia Sei un cazzo di campione Questa comunque è una figata Cioè Vedete quante approcci Che tu puoi avere Porca puttana L'ho missata Di un peto Quest'altra dice Fuck yes Madonna con quale voce Vieni Venuta Carla che sappi che te sto per mandare In faccia alla morte Io te lo dico Tu tecnicamente puoi scattare no Attacco furtivo Oga Te bevi una pozione della guarigione Maggiore E cominci ad avvicinarti Perché tanto se te le trasporterà sicuramente Però posso fare questa cosa Per dare svantaggio al tiro per colpire Attorno a tutti noi Eh oddio è vero Adesso vai in ira alla regina Fa un male porc Come minchia L'ha missata Meno male Sta cosa è vero Me l'avevo dimenticata Ha un attacco extra per turno Più due alla forza E meno uno alla classe armatura Però aspetta Posso dare forse Un vantaggio tattico a Oga Perché se la chiappo Cade per terra Maronne Tu devi dare una mano a Oga Devi indebolirla Quanto più possibile Va bene Se butta via niente Se butta Oga Allora dobbiamo fare danni Mettite sta cosa Posso fare da 18 a 38 danni Il che la shotterebbe Non ci credo Neanche se mi pagano Che faccio tanto così 35% De chance di acchiapparla Non la acchiapperò mai Vai in ira Bellissima comunque l'animazione 58% Sia che stiamo C'ha un multi attack Ha crittato La merda ha crittato Rialza di Oga Cioè sta Shadward Con tipo Battlefield 3 Sta lì Che la sta cercando Di tenere in vita Ragazzi Stai ancora in ira È il tuo momento Per vendicarti Madonna 22 danni Carlac ti prego Finiscila Perché siete stanchi Cioè perché siete stanchi Testa del cazzo Pure io Ce l'abbiamo fatta A tu per tu Bello però Madonna Vincessi sconti È sempre una figata Salve Questo Sì Ti ha No boccalo Vieni qua Carlac Tecnicamente ci arrivi No La Scheletro De merda Che belli Barbari Ti fa tasto Tresto sul bersaglio E puoi lanciare Le persone Star No Carlac L'hai lanciato tu Uno L'altro Lo tiro io Lì Attacco il ruento L'ho messa Madonna Ricominciamo raga Attacco d'opportunità E di nuovo Vabbè pure tu Non scherzi Che fatta Ha aperto Sta aprendo la tomba Che cosa vuol dire Sì perché non era riuscito ad aprirla Quindi interagiva con la bara Poi ce ne sta un altro No perché scusa Voleva aprire sta tomba Ah perché c'era in realtà Ripeti il nome che compariva nel tomo che hai letto Ilinthoth Razza ariana No no Apri tutti i frantumi in mille pezzi E al diavolo la cattiva sorte Col primo tra l'altro Oh Mentre non indossi un'armatura Ne impugni uno scudo Tieni più due Alla classe armatura Ah ma io mi sono dimenticato Astarion Scusate dove cazzo è Astarion Scusate è sparito Astarion A caccia Sta al bar Ah sta di qua Cazzo ma scusa ma che c'hai Alla stanza privata Che c'hai il culo d'oro tu Vai scassina tutto La necromanzia del fei E' interessato Astarion Cioè vuole proprio morì male Gale Oga neanche prova a toccarlo Quel libro di merda Cioè Però bella perché Quella frase extra Io non l'ho mai sentita L'ha detta perché Giustamente lui C'ha il background Dello studioso E cazzo i mazzi vari Inserisci l'ametista Nell'alcova O nell'alcova Sulla copercina del libro Nel buco Cazzo parlate come magnate Dio Cristo E la vessura Sulla copercina del libro Formando parole Che non capisci E qualcosa Sto cercando di rispondere Tanto tra Da mago Bella sta cosa Non pensavo Volta pagina Facendo attenzione Eventuali tra bocchetti Arcanie Attenzione Bella come cosa Perché io l'ho sempre aperto Da guerriero Da barbaro Da ladro Quindi giustamente Noi siamo dei coglioni Che vanno a toccare qualcosa Che non devono toccare Però così figo Volta un'altra pagina Porca puttana Scusa Il primo veramente Una merda E il secondo 15 Sprono la tua mano A voltare Un'altra pagina The glyphs scream Searing your mind You feel lost Tossed in a sea Of arcane power You can neither control Nor comprehend And black strands Of weave Curl all about you Only to sink As into graves As you try to grab hold Necromantic spells Tantalizingly powerful Slip away forever The book snaps closed You've seen too much What profane knowledge Is now seared inside of you You should never have known Segreti del necromante Trova l'ispirazione Ma domanda Questa Oh mi ha maledetto Anzi Sussurri di follia Una maledizione La mente di questa entità È pervasa di sussurri oscuri Ha svantaggio Le prove di caratteristica Su saggezza Madonna Tastes like chicken No chicken Tastes like fish Gentlemen Contain yourselves This quarrel Sous are faced Besides Tastes like pork And what surprise is this Brothers Look here I avoid yet another Tiefling prize Fortune favors our bellies Stranger Be you friend Or food The mark is her measure Show us the brand of the absolute Questa è una cosa greve Perché loro si stanno mangiando Un Tiefling State mangiando carne di Tiefling She's scampered in from the east Calling for You're A pet No doubt The green earth Bless us She bore no mark Those horns Such Cartilaginous crunch Quelle corna Non si appartengono Sfonna a moglier craneo Ma io sono curio Perché ragazzi io so cosa c'è qua dentro O sarà qualcosa di bellissimo O sarà il cazzo di caos C'era dentro uno spectator Una variante di beholder Ovviamente avversario Ah madonna che sei bello Attaccate il beholder No Bravo ok Che tra l'altro se gira male Veramente facciamo una citazione allo hobbit Ma scusa ma ti stanno rompendo i coglioni loro Ma attaccalo Ok Mamma mia Carica Vediamo se lo riusciamo a buttare per terra Yes Ci mettiamo qua di lato Tocca eliminare il primo stronzo Sta per terra Andiamo con Lignaggio di Avernus Attacco i ruè Ma dai Dio cristo Ma col 75% Puttana la miseria Ma lo spectator è diventato Dove cazzo è andato È volato via ragazzi Allora sapete che vi dico Benedizione Così miglioriamo un po' tutti Nel prenderci A Starion Vediamo che cazzo sai fa 98% 98% Percento Anzi Visto che mi gira un po' il cazzo Ci mettiamo anche il veleno sopra No Meno male Almeno un danno gliel'ha fatto Ma tu che cazzo fai là sopra Ecco bravo Riscendi Minchia ma poi quante azioni Perché ci avrà sicuramente Multi attack Con azioni bonus Ma cazzo vuoi da me Si menano le mani Li prendiamo entrambi Yes Perfetti Shadowheart Tu se mi riesci a seccare lui Le Perché così Oga Può prendere Lancio iracondo Prendere la roccia Tirala in bocca All'ump Pezzo di merda E poi Si carica Il beholder 40% Però tecnicamente Dovrebbe attivarmi Reckless attack No ma l'ho preso Comunque Sì Tu hai in azione bonus Vediamo se c'ho qualcosa Nella borsa di Oga Che ti può far comodo Ah ecco la pozione Da velocità Così abbiamo un'azione extra E possiamo fare Delle borchettonate Eh ti faccio un altro Be' flagra sui denti 8 danni Potevi fargli meglio Ma non buttiamo niente Astarion Marchio del cacciatore Ah è vero perché Tu hai la passiva Di tiratore scelto Tutto per turto Quindi se io faccio un crit Fai delle borchettonate Leppa 29 danni A livello 4 Bravissima Scappa E anche attacco il ruento E l'ho mancato Eh vabbè Si diverte Si diverte Ad andare in giro A cazzo sto cosa Carica Il signorino Buttandolo per terra Bravissima Salta via dai coglioni Su Continua a menare Il beholder O anzi No Veniamo il beholder Che è la roba più greve Qua in mezzo Altri 11 danni C'è qualcosa qua in mezzo No andiamo sul beholder Brutalmente Eh attacco il ruento Missato Bonus action Col cazzo Che missa Spadone Finiscilo A starion C'è il 50% Di chance Di prenderlo Azione scalta Per la furtività 75 Picco de puta Vedete A Preparare Potete fare 3 danni extra Se sacrificate un po' di movimento Che è molto bellina Scine Allora qui in mezzo In realtà c'è un drop Ragazzi Che è una madonna Ah l'hanno debuffato Però questo gingillino qui Porta 17 Di intelligenza Di un pg Vi ricordate Oga Stupido Come una gallina No more Che tanto questa scelta Noi dovevamo portare Sta roba dai zentari Ma i mesi in culano Se lo sanno Lads Per chi si ricorda Era la vecchietta Che stava Al boschetto Di livello 5 Stai mentendo Ho incontrato Questa ragazza Potete farmi capire Che cazzo sta succede Potete farmi capire che cazzo sta succede Potete farmi capire che cazzo sta succede Una persona per la ricerca La vecchietta L'abbiamo incontrata Fin dalla prima live Per farvi anche un attimo Di retroscena È quella che ha dato La pozione Alla tifling Paralizzata La tifling Era paralizzata Perché questa stronza Gli aveva dato Una pozione De guarigione Un po' particolare Eppi No mi raccomando Andate in mezzo Posto di merda Mettiti in cerca Di cose fuori Dall'ordinaria Eh questo è un 26 Perché è una roba greve Vediamo se ci abbiamo il culo Cazzo No Va bene Sarà per più tardi Perché in realtà Meglio Perché posso farvi vedere Un paio di robe Molto molto carine Dimmi di questo posto pecora Guarda che bello Però tutto rigoglioso È proprio una piccola Palude allegra Ragazzi Ah che bello Tutta la roba Tutte le foglie Ah stranger Forgive the aroma You catch a waft Of something foul Metallic And sickly sweet Powdered iron vine An old hunter's trick Most monsters Will think twice Before making a meal Of me You're a Monster hunter I'm surprised I thought all gare Were vagrant cutthroats Lascia perdere l'elfo Parla un po' troppo You should listen to your companion Next he'll warn you That my people Can curse your cow To give only sour milk And will seduce your daughter To a life Of roaming I wish I had half the power settled folk Think my people possess Alas I am a simple wanderer A simple wanderer And monster hunter But I'm no witch doctor Or cutthroat E quindi che mostro stai cacciando? Something terrifying no doubt Dragon Psychops Kobold Nothing so dramatic I'm hunting for a vampire spawn His name is Astarion But I fear he's gone to ground I hope the hag of these lands Can help me flush him out If I can afford her blood price Bella faccia da stario Che fa porca puttana Ma no non so io Sono una progenie? Peccato Non è come se fosse un vero vampiro Quindi I don't know I'm sure a vampire spawn Could still rip out your throat If he felt like it He is right Unfortunately They are only weak When compared to their masters During the day We have the advantage But at night When they hunt You'll not find a more deadly quarry Molto interessante effettivamente Astarion cosa ne pensi tu? That's Astarion No Impossible These days I'm making the impossible Look easy May I? Prego Excellent Vampire It can't be Eh beh Giustamente lui c'ha tutte robe Anti vampiro Perché ti immobilizza Ti dà fuoco Figata come cosa I don't want a crumb left on that plate girl Auntie Ethel please One more bite And this pie is gonna come back up to say hello Don't make me get the wooden spoon You're eating for two So get to it If it isn't the cheekiest pop of them all You'd best have one hells of an apology for me young lady Attenzione Scusa Potrei schiacciarti come un nido di rondine How shocking Another barbarian with all brawn and no brains You know I was gonna give you a swift kick up the arse and show you the door But I think you and I could have a bit of fun together God grant me patience Eat up Mayrina I won't say it again Sapete che mi sa Non mi ha fatto fare un tiro perché era una prova insuperabile Perché questa giustamente Credo sia ormai palese Che non sia una vecchia de merda standard Ed era troppo 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 alto Lei e Mayrina Dove sono i tuoi fratelli? My brothers You saw them They stopped by to pass on their congratulations Said they'll be waiting for you at home Oh But why didn't they come in to see me? All their left was a message Which I passed on Didn't I? Don't be stressing And you, hush Don't be upsetting the girl with such things Rispondi dove sono i suoi fratelli It's a shaky thing Sutton Farm Not the Boulders Gate Check if you like But I think you have bigger problems That regular swimming in your brain juice is a bit of an inconvenience isn't it? Beh, no Mi sembra palese che questa donna sia in pericolo You want to play the hero so badly? Fine Let's make this interesting Da quanto che non la vedevo sta cazzin? Tra l'altro vulnerabile ai danni psichici e d'acido fino al prossimo riposo Perché questa in realtà appunto tutta questa roba era un'illusione Se noi avessimo mangiato i frutti che trovavamo qua in giro Erano mele avvelenate Erano mele piene dei chiodi In mezzo all'acqua c'erano le trappole Dall'acqua dal pozzo da cui abbiamo bevuto Ci ha tolto il debuff perché era acqua marcia Le pecore erano dei berretti rossi Che sono tipo delle sorte di folletti Creature fatate maligne Che sono anche up as fuck E la nostra cara zietta Ethel Diventata invisibile Però è una strega È una meggiera Questa è greve Per farvi capire Ha fatto un'illusione gigantesca in tutta la zona È invisibile Lo stanno che facciamo a Starion Vieni qua Azione scaltra di nuovo Minchia 64 con tutto il vantaggio Porca puttana Scattiamo Anche perché la vecchia sta ancora in giro Carlac vieni qua a darmi una mano Comunque non si prende Benediciamo tutti Così aumentiamo le chance di acchiappare C'abbiamo un D4 di ripercolpire Di risalvezza e cose simili ragazzi per dirvi Faccio da manuale vivente Anche per voi Brama di sangue Quella è greve Quello fa fare malino malino Lei sta qua E si è infilata qua dentro Tanto questa voi potete shottarla anche qua Se siete abbastanza bravi Potete fare delle porchettonate Perché se avete le cose per togliere l'invisibilità E compagnia E tanta tanta roba Ma non sai che ti dico a Starion? Vai in fighter Chissà se mozzico un berretto rosso Che cosa fa? Diventi felice? No Però va bene lo stesso Oga Questo tecnicamente è un berretto rosso di merda Cioè tecnicamente è piccolino Ecco Avvicinatevi là Che bello Ti flagro il culo All out come al solito Madonna comunque il ladro Ci sta in cazzo da fare i buchi Quello ha 12 HP Lancio il racondo YIT E l'ho anche ucciso Ci manca veramente oga che fa tipo mazzetta da baseball E l'altro l'abbiamo buttato a terra ovviamente Sta lì per terra la merda Eeeh Quando chiappa però che fa male eh Ma questo ho lasciato lì in vita perché lo lancia Ma ho appena visto un folletto fa una dropkick Ma è stata a fai seri? Ha yittato via Shadowheart proprio Eeeh Carla Prendi Lancia pure tu Intanto siete degli ignomi de merda Dio mio i barbari che belli che siete cazzo Siete proprio belli Vendicati Mazzettata sui denti A Stadion Attacco furtivo Ok Oga Quello che sai fare meglio Prendi sto cadavere Non lo shatterà mai A me mi piace come lo tira Lo prende tutto duro per i piedi e lo tira Che tanto fa pure più danni Perché ovviamente è la sottoclasse di Oga Che c'ha delle robe particolari Che tanto io pure è una cosa che non sfrutto parecchio Ma ci sarebbe l'arma da mischia improvvisata eh Cioè prendere una cosa E non tirarla ma proprio usarla Cioè io posso schiantare un ognomo in faccia a qualcuno Cioè non lo fai magari con i cadavri Ma con le sedie Barili e cose del genere Posso parlare con il dogo Che c'hai? Incoraggiano a lasciar cadere la palla Eeeh 15 Eeeh la madonna Un drago sto addestrando Ci riproviamo Ci riproviamo Dammi sta cazzo Porca ma Guarda che devo fare come con il mio cane Che a un certo punto devo mettermi lì Tipo molla sta palla che te la tiro stronzo Dammi sta palla Dio madonna Distrailo con una mano e fai scivolare via la palla dai suoi denti Dio madonna Oh ok E così va bene Dammi sta palla E vuoi giocare e non te la fai prendere Da da Dio madonna Dio madonna Se mai sta veramente qui cani E mo te la tiro Pezzo di merda Accarezzalo Porca puttana Che cazzo devo fare per tirarti sta palla di merda Nell'antro della strega ragazzi Questo è uno dei posti che odio di più al mondo Ma che è molto molto bellino Porca puttana Ma vaffanculo Ma vai a cagare Hai fatto biancolpo Perché altrimenti che fai? Voila Questo non mi è costato neanche uno slot È un trucchetto di magia Ah no scusate Questa è una cosa molto bella Perché qua si scoprono delle chicche Questa è nuova Cos'è successo l'ultima volta che hai fatto passare qualcuno? By lip she cackles The man's remaining flesh twisted and contorted Becoming the twisted surface of the door before you Flea Madonna mia che Che cosa Non ho paura di quella leggera? A scene appears in your mind Two paladins and a cleric marching through the door Shrouded in the glow of the divine Weapons brandished They charge into the hagslayer Screams of terror pierce the air You let them in? Naughty Ma vogliamo parlare di quanto è bella animata nel doppiaggio visivamente anche la strega Cioè dovrebbe essere ok una stronza Però figata sti intermezzi Dico sul serio Fammi passare Se uccido la leggera riavrai la libertà Comunque voglio per Cioè posso passarci perché ho capito che è trasparente Ma almeno voglio dirgliela questa cosa Non veramente per persuasione Allora in realtà io questa vorrei provare a farmela non letale Perché questi non vorrei ucciderli Tra l'altro devi essere disarmato Usare un'arma da mischia Non effetto su non morti né crustrutti Avvicinatevi tutti Qua dovremo sta bene no? Attiviamo la modalità turni E cominciamo Di ladro Usa l'azione Scalta per scattare Vieni qua Voglio vedere sto test finale Cioè se io faccio questa cosa no? Dovrebbe succedere Che se io attacco questo bastardo Se veramente parte L'imboscata Se attacco per primo Sorpreso Perché così almeno inizia il round Ma noi possiamo agire come cazzo Ci pare Essenzialmente Entriamo in fight In realtà Benedicendo i nostri main Adesso tocca da Starion Dovresti poter raggiungere il signorino Ok E uno ce lo siamo fatto non letale Tecnicamente a te te posso pure Sciottare se me gira bene 21 Allora questa è greve Perché c'ha Dov'è? Pedina della Meggera Però dovrebbe avere proprio un tratto particolare Vendicativo Cioè ogni volta che tu l'attacchi Questa ti fa Dai 7 a 16 danni Più anche psichici Questa vi sciotta Vi devastare nel culo Io non voglio attaccare Questa signorina Non subito Perché questa fa male Andiamo da lei Se la tiro Secondo voi La uccido Fammi vedere Il danno dell'armina È lo stesso Dell'arma in mischia Dell'arma da mischia No È là Ma va a fa un culo Ma gli è rimasto un HP Allora stai Non stai per morire Io te lo dico Perché non c'ho il vantaggio Ah perché non c'è nessuno vicino Cazzo Me l'avevo dimenticato Vabbè allora cechiamola Oh bella Questa ha passato il tiro Vedete qua Se loro lo passano Dico ah non mi fa far male A ste persone Per questo non le voglio uccidere Allora Carla Capri il culo No Troppo Preparare 70% Glielo facciamo Reckless 91 Per terra Smash Una cosa Noi togliamo ovviamente La maschera Potrete capire Tranquillamente perché Qua volete sapere una cosa Perché lì in mezzo C'è un condotto Che fa sto schifo Qui una cosa bella Che potete fare Facciamo lanciare Ad Astarion La tunica Semplice Sul condotto Perché lo tappa Disattiva Sta trappola Di merda Eeeh La Madonna Eeeh Che cazzo è Il buco del culo Di un drago Stiamo disattivando Ci provo Poi Poi Ficcata De che Poi in realtà Se avessimo Un equipaggiamento Particolare Potremmo vedere L'invisibile Ed è una cosa Molto figa Io questa signorina La odio Voi non avete idea Tra l'altro A style Noi ci dobbiamo Fare furbi Tu sarai Il nostro Assassino Esterno Shadowheart Tu vai Lassopra Ma potrò Prendere la strega E lanciarla Nel dirupo Con 21 a forza 21 a forza È tanto 21 a forza Eh ma 21 a forza Dovrei poter Sollevar Fino a 21 per 15 Fino a 300 chili Però mi sa che qua L'hanno debaffato Vabbè Vediamo Vediamo Io continuo a dire Lo star In D&D La persona media Nel mondo A 10 a forza Cioè quando voi avete In D&D Un barbaro Arriva ad avere Magari 24 Cioè vuol dire Che lui veramente Può prendere un drago Per la coda E alzarlo via Posso farla scendere Subito Ma secondo me Se attiva la fight Non la permettono Più sta cosa Ha dato fuoco Alla gabbia Eccola qua Perché fa delle sue Copie sta stronza Visto che siamo ancora Off fight A Starion È il tuo momento Di entrare in gioco Perché ci sono Soltanto due copie Perché le altre due Sono morte a caso Quindi chi Eeeh A Starion Bono Mi sa che la puttana Si è resa invisibile Perché c'è sto cono Di visione qua Cazzo Allora aspetta Perché non posso fare Niente da qua Da Starion Ti è ancora a distanza Per un tozzo Cazzo Visto che è una boss fight Moneta dell'anima Si power up Furia infernale Fammi un'idea L'odio e dolore Di un'anima Catturata Alimentano la motrice Infernale Di questa entità Mentre in ira O hai punti ferita Pari o inferiore Al 20% Figgi un D4 Danni extra Con gli attacchi Vabbè Poteva essere Meglio Onestamente Però Anche perché ho appena Bruciato l'anima De una povera anima Pia Senti Allora abbassiamo Sta gabbia di merda Intanto Questa succederà Il turno dopo C'è un oggetto Nell'inventario Che gli posso tirare Stelmo Inforzato Becca brutta vacca Invece si è messa In mezzo Bello comunque Io adoro Come qualsiasi cosa Vi viene in mente Potete farla È una roba Che adoro Cazzo Oh È diventata Uguale Alla Dio Cristo E mo 15 Vediamo se posso Fare il cheater 10 Lei È statistica De merda In realtà potrei notarlo Anche Se io mi avvicino E mi allontano Non mi fa l'attacco D'opportunità Bella come cosa Astarion È il momento Per andarsi A inchiappettare La strega Vai 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 Veleno di draw Vieni qua Afflitto da veleno nel draw Ergo È addormentata È una povera creatura Addormentata Subisce Il fatto Che viene colpita Per forza Quindi Lignaggio di Avernus 17 Dai 38 Danni Io adesso Te apro il culo Madonna Le avete sentiti Sti 43 danni Proprio Ma adesso Ci voglio arrivare Conoga Datemi un attimo Datemi un attimo Che tanto Infatti Tu c'hai 21 Una forza E' una forza Ergo puoi Oh no Non la posso lanciare Quanto pesi Brutta stronza No L'hanno debaffato Quanto puoi lanciare Rupi Che è una città 300 Attacco D'opportunità Ed tutti Ho capito Ma che merda Puttana La buttiamo per terra La nonna La buttiamo per terra La nonna Vabbè il colpo finale Lo farà Oga Se gli gira bene Signorina No non è che è più duro È che Sarà pure che siamo Due barbari Ci abbiamo avuto In realtà anche i dati Molto dalla nostra Cioè vedete questo Quando vi dico Girano i dati Perché comunque 43 danni da Carla 40 danni da Oga E il buff A Starion Che andava in furtività Diciamo che Cioè questa Se è una fight Che tu inizi Senza andare in furtività E avvicinarti Immaginate che Dovete avere Già un tot di tempo Per avvicinarvi E loro vi fanno delle cose Si moltiplica Figa la cosa però Che si trasforma In lei per fregarvi Diciamo che è stata fregata Un po' dalla sfiga E un po' dall'esperienza Che modo interessante Di ringraziarmi Lo sai che la non ti avrebbe mai aiutato Davvero Volevi barattare tua figlia Per il tuo defunto marito Non mi giudimi Non ho niente Il mio figlio Si era riuscito In raggi L'Ante Ethel Promete di dare A questo figlio Una buona vita A insegnarli Magica Anche Più di che Mi potrei fare Oga Grazie per questa espressione Tu stavi barattando Tuo figlio Per tuo marito E te l'ha detto La strega Cioè tu te sei Scarruzzata Tuo marito morto Fina qua Ma tu sei scema Io devo capire Perché questa è una cosa Che non conosco Magari dell'ambientazione Di sti giochi qua Ma esiste Tecnicamente La resurrezione Figa Invece di andare Da una strega Di merda Vai a Baldur's Gate Vai alla cazzo Di cappella Di merda Paga un cazzo Di chierico Gli paghi il diamante Per fare il rituale Vaffanculo Tutto avrei fatto Fuorché andare Da una strega Cioè nel senso Tu apri un qualsiasi libro De bestie magiche All'interno Di qualsiasi città Tu vedi Ah strega Te sei in cula A sangue E tu fai Nel senso Amaro divorzio Questa è molto bella Come cosa Ho trovato una bacchetta Penso di poter Risuscitare tuo marito Cosa Tu puoi Scegli una Sceglia di potere Della La scuola L'aria Sceglia Acredo Vuole essere usato Tra l'altra Tra l'altra Tra l'altra Per favore Abbiamo trovato Dentro l'antro Della strega Questa era la promessa Che aveva fatto Etel A Myrina Punta la bacchetta Verso la bara Perché la strega Ti frega Se tu avessi un attimo Letto un libro di merda Scusa Che bello L'ha riportato indietro Tu non gli hai specificato Come In vita In vita È un po' putrefatto Beh Così l'ha maggera Rispettato i patti Nulla è mai come Ce lo immaginiamo Vedete questo Invece di comprare La roba su Wish Diciamo A vera su Wish Posso comprare Lo stesso caricatore Del telefono A 20 euro di meno Poi lo attacchi al telefono Esplode il telefono E devi spendere Nel altri 2000 Per il telefono nuovo Lei andava a Baldur's Gate Bravo Mi piace quel sorrisetto Smugoga Stai godendo Di questa rincoglionita Se tu eri andato A Baldur's Gate Avvi pagato Invece di 100 monete d'oro 200 per un diamante L'avevi dato anche ieri Che te l'aveva arrestato Davanti agli occhi Eh Devo preoccuparti Ho la bacchetta Gli troverò qualcosa da fare Voilà Brutta rincoglionita Secondo te Ti metti in mano Una bacchetta Che evoca un non morto Catroia Che questo ragazzi È una roba molto figa Perché essenzialmente Questo è un oggetto Che effettivamente Noi possiamo avere Nell'equip E quando vogliamo Lo utilizziamo E possiamo evocare Un non morto Cioè questo è nostro E ha tutte le caratteristiche Di un non morto Ovviamente Quindi dovrebbe avere Anche tempra dei non morti Quando dovrebbe morire Fa un tiro salvezza Su costituzione Se lo passa Rimane in vita Ed è una figata Puzzolente Il personaggio puzza Questo ovviamente È una cosa pure figa È che se noi viaggiamo In un posto civilizzato La gente Ci guarda male Non ci attacca Perché Oh non so A Badood's Gate Però ci guarda male Perché giustamente È un non morto Condo il tuo esperto parere Perché sono curioso Di chiacchierare Perché manca questa cosa Molto Voglio conoscere i personaggi Qual è il metodo migliore Per uccidere un diavolo? Comunque è incredibile lei Perché sembra Io quando faccio i video Su YouTube Che è questa cadenza Come vi siete conosciute Tu e Misora Quella bellissima donna Cioè letteralmente Cioè letteralmente Te sta a cacciare invidia Capisco perché Non vedessi l'ora di fuggire E come è finito Nel tuo petto Una domanda Una domanda Ma la nostra Oga La vede dell'amore Cioè letteralmente Cioè letteralmente Politico Politico Inventor Uno di questi Wheeler Dealer Tipo Il Sì È un'ora di fuggire No, probabilmente sarei nel me bezzo di un'altra avventura, beatamente libera da qualsivoglia girino. Lei veramente è Oga comunque, cioè di come la sto vedendo, è proprio proprio Oga. In ogni direzione. Then there are three figures before you. An armoured male elf exuding power and command. A handsome younger man with a quick, easy smile. And a pale young woman with even paler eyes. These are my chosen. They speak for me. Aid their search for the prison. And you will be worthy to stand beside them. In my presence. You feel energy pulsing from the artifact. Lifting the pain from you. Pushing the voice away. My power grows. My forces gather. The wrecking draws. Don't give me that look. I don't know what just happened anymore than you do. We should keep going. That thing in your pocket is powerful as hell. Perché giustamente se quello è un artefatto git, questa va tramite i parassiti e cazzi e mazzi vari, magari è un artefatto apposta per contrastare la roba che stanno poi i mindflayer. È quello che sentono gli altri quando siamo il parassita contro di loro? Perhaps. Aspetta però, c'è quel cazzo di robo, ferma la voce, che minchia, eh? Non lo so. Non esatto. All'altro che vedo è che è importante che tornarlo a Bouldersgate. A quali costo. C'è palesemente dell'altro, vuoi essere onesta? C'è palesetto. Grazie per aver condiviso queste informazioni con me. E quante volte cosa ti affliggeva prima? Cosa ti affliggeva prima? Ok, sì, effettivamente è una ferita che ogni tanto gli ricorda. Oh, oh, oh. C'è qualcosa che posso fare per aiutarti? Non credo così, ma sei dolce per chiedere. Magari, solo sei paziente la prossima volta che mi vedi a rilassare o a rilassare. Si passi velocemente abbastanza. Si fa sempre. La dolce è sagrada per i seguenti di Lady Shaw. La dolce darà il modo alla perdita e poi alla pazza della sua eternità scuola. Beh, quindi sapevi più di quello che mi hai detto prima, no? Spero che sarai più onesta in futuro. Guarda quanto è bello il volto di Shadowheart. Cioè, proprio, ma in realtà tutti quanti sono fantastici. Vorrei parlare della tua fedeltà, Char. Non ho nessun problema con i seguaci di Sar. E se è questo che ti preoccupa. Ho sentito molto di denigrare il culto, da alcune parti addirittura vietato. Vorrei conoscerti meglio. Qualcosa che sia al di là, appunto, di char e di girini di merda? Vabbè, dovrei mostrarmene una la prossima volta che ci passiamo accanto. C'è altro che vuoi dirmi? No, non posso. Quanto letteralmente, voglio dire. Con le mie memorie suppronto, non posso scoprire i segreti di Shars. Ma non posso ricordare molto di me stesso. Se ho deciso di tornare a Baldur's Gate e rilassare la missione di Shars, allora le mie memorie saranno ristruttate. Guarda che bello l'accampamento di Goblin. Qui, tra l'altro, si suona in gruppo, ragazzi. Facciamo danza bardica. Si unisce. Quello col flauto e quello col tamburo. Questa è una cosa bellissima. Tiratemi i soldi, merda, ho fallito il tiro. Sì, e non solo. Ah, grazie, gioco. Tanto per cominciare, quello non è una collina, è un orso gufo. Questa è una collina, non è? Un peccato? Sì, credo che è usato, guarda che ha avuto il nostro ultimo cuore. I credo che è usato un gioco. Vuoi avere le regole o non? Hai solo che cazare il cuore il cuore e sulle le posti. Ma questo non è tutto. Hai fatto di farlo rapidamente e solo. Quali dei miei stanno in, ti perdono. Se il tempo si tratta, ti perdono. Sembra divertente, ci sto Ma dai, facciamo una scommessa vera, 300 Vieni qua Eh beh i goblin ti hanno fatto del male, distruggili Vedi il traguardo che ordini in quella direzione Parla perché ho bevuto la pozione di parlare con gli animali, Star Porca di quella puttana Sì Carri, patata Dammi la mia vincita Allora scriveremo nuove regole Usando sangue e pelle di goblin Sti cazzi del parassita Ste cose sono troppo belle Però vedete queste cose che noi rimaniamo sempre nel personaggio Ci stanno dando un sacco di ispirazioni Cioè questa è una cosa veramente figa Perché se tu stai fedele al tuo personaggio il gioco dice Ok ti do una mano perché te lo metti Credere è un dato di fatto Non siete diversi dal terreno che pesto quando cammino Well not us Things are changing We got the absolute on our side now You better learn your place Go on Kiss more foot Or I'll kick your head in On face Barbaro intimide No Tu bacia il mio No mate Just piss off You're not welcome here Baciami il piede Adesso The goblin stares Mouth a cape Then he sets his jaw And falls to his knees There I've done it Arrogant swine Adesso vi faccio vedere anche una chicca He kissed your feet What was it like Just curious Ci usano attorno questi goblin Che sono bellissimi Perché ci hanno tutte delle reazioni uniche Oga è tipo Mistress Lancia un gemito di piacere Sorella mistress questa eh Fa parte del gruppo ragazzi E' stata una cosa bellissima che pochi notano E' che quando voi andate in furtività Per farvi capire anche molto meglio Come workano le ombre Vedete come si racchiude Diventa molto più precisa Quasi proprio da Gioco da tavolo Perché mi fa capire che se io metto Un ditino qua Vado Illuminato Se sto qua sto al buio E' una figata assurda Ok Meno male che tocca prima a noi Cerchiamo di non farla andare via Perché come potete immaginare Succedono cazzi Altrimenti Porca puttana Ma come cazzo fai a mancare con il 92% Ma dio madonna Starion Dio madonna Ecco qua Sta arrivando l'esercito Dalla salvezza Eeeh Non volevo scatenare l'inferno E se è scatenato invece C'è vaffanculo Secondo me adesso suonano anche Quel tamburello di me Eh la madonna Vabbè raga ma Sta signorina C'ha più culo che anima Allora mi prendo un attacco D'opportunità Lancia questa Vabbè ormai si fa all out Si fa questo No non la tirare Perché se la tiriamo Questa va di sotto Ci serve il drop No ce l'abbiamo fatta Ma in realtà qua Converrebbe continuare a fare le termobili Cioè chiudi la porta Si deve una vicenda Eccolo Mmm No 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 Ho visto una cosa brutta Un goblin di merda Sta correndo verso il tamburo Facciamoci un attimo Furby Shadowheart Tu hai una doppia azione Doppio scatto Così abbiamo 54 metri Di corsa Corri qua Dobbiamo cercare di non attivare l'allarme Costi quel che costi Perché Shadowheart è corsa là? Perché mi serve L'attacco furtivo Però togliamo questo Perché così dovrei avere Un 70% di shant Oh No dai Dio Cristo Qua comunque i dadi Stanno proprio Dicendo di no E so it begins Eh Mo ci acchiappano Comunque ogni tanto si buggano Ste robe Vabbè Vabbè lo attaccano normalmente Ecco vedete in realtà Ce l'avevo Reckless Ma ho mancato comunque Sì sì venite 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 Avete caccato la wallera Eh mo comincia a prenderci a stadion Eh Tacci tua veramente Sì sì Vedete quando si muovono così insieme Perché appunto Invece di farti il singolo stronzo Vanno in In gruppetto Carla bella di mamma Arrivo Allora tecnicamente Se vado qui Salta Oga E facciamo Incalzare Perché prendiamo Tutte le cose davanti a noi E attacco il ruento Da Burugil Tocca a te Carla Reckless Vittoria memorabile Sbatti le palpepe Cercando di allontanare il malessere The world swims As you close Then reopen your eyes How long have you been waiting here? A moment? A night? A ten day? Chukil geik vlaketh mazathok Can you feel it crawling through you? Tendrils squirming in your chest Gripping your heart Piercing your belly Your bones popping Your flesh swelling I can I see it in you I feel it in me We are lost I will be quick with my blade First you Then the others Then myself Your minds intertwine You sense a touch of uncertainty A touch of disgust Eh ma perché Leizel È molto difficile capire Perché è una roba Completamente strana Rispetto a D&D in generale Perché loro so guerrieri Che so votati A cacciare A sterminare ste cose Compagnia So Per le altre razze Molto razzisti Guarda Sono curioso Esplora la mente di Leizel Non vedi a che punto sei arrivata Dammi quella lama Farò in fretta Farò in fretta Taglia la gola I will not be gich Vlaketh korg shkath zai I came just in time Che bello ti fa vedere che è lei che ti ha aperto la cosa Che ti ha parato il culo Così ti fa vedere lei che ha fatto tutte quelle robe per aiutarti Conosco la tua voce Non è la prima volta che la sento Però chissà se lei È il parassita Non è la prima volta che la sento Non è la prima volta che la sento E io sono qui per salvare te ancora Non preoccupi No mi alzo da sola Non è la prima volta che la sento Non è la prima volta Quattro di noi, devi imparare a compagni. La luce per la fate di Faerun. La luce che stiamo perdendo. For now. You can change that, but only if you embrace your potential. I have to go. The enemy is closing in. I will be back. Wake now. You'll feel better. I promise. Yes. Ma è sopra persino la roba che sta nei Forgotten Realms. Però bella. È stata figa. Lasciamo perdere lei che camminava nel vuoto. Sì, esatto. Era un viaggio univo che noi ci ha fatto vedere da qualche altra parte nello spazio. Però va capito perché lei ha detto abbraccia il tuo potenziale. Ma aspettate infatti, ma che sia adesso il momento in cui posso... Come ho detto, voglio usarli questi poteri per anche farveli vedere a voi. Apri la mente al girino? Il tuo mente si tratta come si tratta di tutto ciò che il Tadpole ha di offrire. Tutto ciò che era e tutto ciò che era destinato a essere. Il potenziale. Il potenziale. Il potenziale. Buono. E vuole che ci impariamo i genini, ma è apparsa sta roba così, poteri Illithid. Deflagrazione concentrata. Per lanciare questo incantesimo deve essere concentrato su un altro incantesimo. Se il bersaglio si stava concentrando, recuperi anche un ammontare di punti feriti. 3D6 più 3D6 decura. Tunnel di forza. Carica in linea retta per spingere via di 4 metri ogni oggetto. Creatore. Distorsione. Esordio favorevole. Aggiungi in bonus competenza al primo tiro per colpire o alla prima prova di caratteristiche che effettui contro un bersaglio. Fortuna del reame remoto. Quando mandi a segno un tiro per colpire contro un nemico puoi trasformarlo in un critico. Mi sfotto il cervello. Stiamo sfottendo il nostro cervello piano piano. Va bene. Tu sempre con questi artefatti. Dio Cristo, magna te sto coso e non romperi i coglioni. Grazie. Buoni Dio. Non ha nessun effetto. Ma il mistero, ha la miseria su noi tutti. Scusate, ho bisogno di parlare con te, con tutti voi. Sarà incontro di me di rimanere silenzio. Va avanti, said Ramić. Scusate, ho bisogno di rimanere silenzio. E mi stai dicendo che hai fatto l'amore con una dea? Oh, sì. La tua ambizione è ludevole. Scusate, ho bisogno di rimanere silenzio. Inizialmente, come mi sembra di rimanere silenzio. Ho bisogno di rimanere silenzio. Ho bisogno di rimanere silenzio. Scusate, ho bisogno di rimanere silenzio. Scusate, ho bisogno di rimanere silenzio. Scusate, ho bisogno di rimanere silenzio. O se volete andare dire il finale di il mistero? Scusate, mi conosciuto. Le mie gestioni non possono essere abbastanza grandi. Sono sicuro che questo diritto di potenza, trattato in romanzo, potrebbe convincere il mistero di prendere me con la mano e invitare me in her hitherto forbidden domani. Ho bisogno. Ho bisogno di rimanere il libro di fabile e ho bisogno di me studi. As per cosa succede next, qui, mettere la mano sull'amore. Devo provare. E la Dio dice che è sempre hungry. bella madonna di Padre Pio come fai ad essere ancora vivo? come fai ad essere ma comunque immagino morirai esplodi tu in assoluto non ti devi far controllare dal girino zio ma ecco perché ci ha scelto a noi cioè ci hanno beccato no forse no era cazzo però perché noi siamo dei casi umani non possiamo fare qualcosa non è che mi voglio separare da te zio è che l'unico finale che vedo per te è portarti nel bel mezzo del cazzo di nulla con qualcuno che vuole morire ti sgozzi o vai da solo ti sgozzi esplodi fai terra bruciata per miglia 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 cioè la tua fine che vedo è questa ormai per quanto sia non così tengo troppo a te per abbandonarti andremo avanti insieme la quale è un brillo è un brillo è un brillo ha un brillo è un brillo è un tranquilo consist I thank you I thank you all I understand if you stand against me I'm humbled if you stand with me Either way I will do my best not to let you down I stand at a precipice but if you do not give up hope neither shall I I'll fight I'll resist as long as I can now Even I am tired of the sound of my own voice that has been your fourth And if you do not have to feel the magic Netarese or Netarese you are in possession of me what would you do? I promise I will not betray your trust you kept me by your side despite the menace that I am if worse comes to worst I will be long gone before the curtain falls Ok Cioè lui ha avuto essenzialmente l'idea che avevo detto prima io cioè se ne va in un luogo sperduto ma anche perché sapete raga Waterdeep mica sono 200 metri eh cioè Waterdeep è una delle città più grandi del della costa della spada ma non mi ricordo esattamente dove sta è enorme cioè vuol dire che se questo esplode so cazzi amare ma quanto pare per riparare la tua motrice non dobbiamo fare altro che trovare il ferro infernale La motrice infernale come funziona? Gives me energy Power But you've seen it in action Very hard to control If I'm excited at all Angry Nervous Delighted Enticed I burn Hot Hot enough to burn Anyone who gets close Devi essere alquanto Repressa I try not to think about it I still think about it constantly But you know I try One of these days I'll sort the whole inferno The fair out Get myself cooled off Start making up for lost time But Not today Ma che tra l'altro Questa è una cosa che uno pensa Magari semplicemente al sesso Però in realtà È una roba molto più profonda Perché lei non può neanche dare una mano Un abbraccio Una carezza Un bacio Senza che Devasta Che ustiona L'altra persona Cioè quella è la cosa pesante Quindi c'è un cacciatore di Mosi Sulle tue tracce? Non più Perché ti sta dando la caccia? Cosa hai fatto? Non ho fatto nulla Non ho fatto Sono chieditato Come tu Mi sembra che Cazador Mi vuole tornare Stai sicuro che sia lui? Era lui Sono sicuro Solo lui Sì 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 Quindi perché va a andarne un'ora Per ricordarti di quella notte? E anche perché se un vampiro ci viene a cacciare a notte E siamo qua all'aperto C'è se scopa Detto semplicemente Ci ritroviamo la gola tagliata Non ce ne accorgiamo E siamo morti Beh non ti preoccupare Se è al sicuro con me Ah ah Sei sicuro Tu pensi che sono sicuro? Siete il potere Che un vampiro possiede? Può cambiare la forma Inoltre in mista Chiamare le potezioni Per fare il suo potezioni Scogliare le potezioni Come si è niente Può andare in un campione E ti uccidere Con le sue mani E tu sei fortunato Stai comunque parlando con Oga È un PG che ha tirato un cazzotto in bocca a un dio Sbattendosene che sarebbe morta Però dettagli Beh non sono invincibili Che ne pensi dell'accordo di Raffael? Madonna comunque lui è debba Adesso a spacca ragazzi In realtà è tutto pirividi Ma lui c'ha dentro Veramente i demoni in testa Ma manco per scherzacce Abbiamo altre opzioni Opzioni migliori Ma sapete che forse a Starion È la persona più sana del party Inteso il capire Che cazzo sta succedendo davvero Cioè è l'unico che dice Ragazzi siamo una gabbia dei matti Ma che cazzo volemmo fare Cioè è l'unico Dunque a proposito di quando mi hai morso Ma sì ma perché Oga è un personaggio come ho detto Molto bonaccione Molto anche stupido Ingenuo per dei frangenti Ma molto buono Cioè quindi anche che costa che lei appunto Viene dissanguata Glielo fa fare il mozziglino Se serve a potenziare un proprio membro del party Comunque questa notte potrei bere il mio sangue se vuoi Ma sapete Non c'è nulla che voglio più Vrei a te domani Quando sei snuggamente wrappedo in vostra bedroll E possiamo avere un po' di privacy E questa volta Mi faccio che sia quieto Non voglio che stupere il tuo resta Later on Quando siamo At rest I will eat you right up Just enough to give me strength And just enough To leave you wishing for more Era bisogno di farmi questo discorso alla 50 sfumature di grigio Come ci si sente essere un diavolo? It's said that anyone who baths in the river of blood emerges as one born a new It's a lot like that I imagine I feel the weight of these horns on my head Curling upwards like a mammoth's tusks I feel these ridges snaking down my neck Not to mention a few bumps and prongs in unmentionable places But I haven't seen my reflection just yet Be my mirror What do you see? No comunque ci siete fessati con sta cosa che cazzo vedi? Guarda visto che siamo un tipling Un gran bel diavolo se posso dirlo I can't tell if you're being silly or serious But I'll accept the flattery either way I suppose I'll grow used to the new me Horns and all The people will see A curiosity Maybe even a beast hungry for their souls But I will slay their monsters Keep them safe And one day they will see The blade of frontiers again E con i corni potresti in attimo smussateli Vai con un seghetto Gna 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 Fortissimo Ti metti un cappellino di quelli Con la visiera alta Deve esserci qualche scappatoia nel crontaratto Che ti permetta di uscirne Beh possiamo batterla Se mettiamo insieme i nostri vermi Alla fine sono un potere ancora superiore Come se è diventato la lama della frontiera Come se è diventato la lama della frontiera Ed è stato lui a chiamarti la lama della frontiera? No No Ma mi ha chiamato amico E questo ha chiamato il mondo Ma che cosa degli altri? I figli non si salvavano I crani non si scordi In i bambini Mi ha chiamato la malattia Finalmente vi ho visto la sofferenza Dato dai villani del mondo I frontier demandi una blade E così ho chiamato Però possiamo prendere anche Sti due minuti per un attimo Parlare del fatto che Noi ci sono tipo circa Un'ora e passa Che stiamo facendo sti dialoghi Quanto sono belli Nelle animazioni facciali Nella musica Nel mood Nelle inquadrature Non mi lasciamo perdere ogni tanto Quando partono quei due tre bug Che camminano nel cielo Cioè ma questa è Proprio soltanto Nel grezzo di quantità E qualità Una roba incredibile Cioè voi immaginatevi Un Dragon Age Origins Remake Fatto con questo mood Che cazzo di altra roba può essere Immaginate se questo diventa Una sorta tra virgolettoni Di standard Che cazzo di roba può diventare Stop wasting time, Baritha You're not here to play with the locals Of course, Kithrak We merely sought to No excuses Question, kill Then move on Find the weapon Our queen watches us Fail her Ma che bello L'hanno molto cambiati Questi signorini esteticamente L'hanno cambiati Veramente Veramente tanto Lui è diventato Molto più anziano Più vecchio La signorina è al tipo Albina Ma che figo E poi la gente si meraviglia Perché non vuoi romanzare Sti tizi Ma sì ma io l'ho detto Anche la fine della scorsa live Cioè romanzare un git yankee È veramente Poi non so se Lei zel cambia Perché appunto Non lo so Ma è qualcosa veramente Dal limite Del tossico Se non sei un git Ti trattano come Come una spugna Come una roba Per fare i loro Bisogni E basta Comunque sì Lei zel è morta Ripeto Non per mano mia Tanto guardate Vi faccio vedere Anche una chicca È il disegno Dei goblin Ovviamente Spugniamo poi Perché te spacco la testa in due E ti faccio ricagare E ti faccio ricagare dal tuo drago Arruggisci Che belle queste cose proprio Perché prima Vuoi qualcosa da me O lo avresti già fatto Perceptive E tra l'altro qua E tra l'altro qua Sinistra C'è un drago rosso Che ci guarda Dovrai partire dall'inizio Che arma cerchi Oh che bello Perché sta facendo Un incantesimo Con natura somatica Quindi sta facendo I gesti con le mani Interpreta il significato Dei gesti Dai proviamoci Oh è un 10 You realize he's casting Detect thoughts Dai si si è attentati Oh di son darti i pensieri Voila Scusa Nothing even approaching A useful thought In that skull I want to just kill you Allora a me mi ha rotto Il cazzo ragazzi Mi ha veramente cacato Il cazzo Gli rugisco in faccia Vaffanculo A me i git Mi danno al cazzo Che c'hanno staria Del se la sentono calda Dio madonna Vi voglio Spaccare il cranio So bold In the face of death Perhaps you may live After all Better to let Stronger blood thrive It can give rise To worthier foes And hardier slaves Don't disappoint me Madonna quanto amore Ci avete messo Nel modellare quel drago Ah ma se danno Oga Qual è che riusci a mettere in fuga Un branco di git Va bene Ma stavo pensando Cioè loro erano schiavi Se sono liberati dai mindflayer E poi Hanno fatto a loro volta gli schiavi Non mi pare una cosa giusta da fare Cioè a meno che gli schiavi Non siano mindflayer Perché roba Mindflayer Git Tutto quel piano lì Di esistenza Di D&D Conosco poco I git sono degli xenofobi Non come I git yankee Perché c'è una differenza Tra git e git yankee Stessa famiglia Ma inclinazioni differenti Ok fanno tipo Letteralmente I draw Che esistono quelli Buoni E quelli di lotto Allora Questa è la nostra Caraoga Gli ho messo L'abito di Karlak E diventata una Barbara Dual wielder Che sarà un barbaro Molto specializzato Nell'avere tanto movimento Nel potersi spostare Nel poter attaccare tanto E abbiamo un 18 di classe armadura Che non è per niente male I was just thinking about you Remembering our time together The things we've shared And I don't just mean that lovely neck of yours I'm growing to like the whole package Honestly And you clearly like me too So Abbiamo finito i dialoghi La volta scorsa Che cazzo vuoi mo Quindi Come now Don't be coy Your body's already given you away I could feel it As I was getting lost In your neck Your little Shakes of excitement You enjoyed it Didn't you Ma scusa Ma sta parte Aromance Così a cazzo Una vera signora Non lo direbbe mai You don't have to say a thing I already know how you feel Because I feel it too We could take an evening to ourselves Get away from camp Get some privacy Una persona meno fiduciosa potrebbe pensare che tutto questo sembri molto sospetto Thank goodness We're all such good trusting friends then On my honor The only thing on my mind Is depraved carnal lust Scusa ma Stai mi sta a dire che vuole scopare ragazzi Ma io non voglio Ma no Scusa ma No You're no fun at all Deny your feelings all you like It doesn't matter to me I've already tasted you And that's all the carnal delight I need Sì volevo dirti di rimanere all'accampamento dio cristo Rimani Dai zitto Dio madonna Scusate Mi ho finito di piano che arriva a parlare e mi fa le avance Vieni nel gruppo Non è che pure tu adesso mi dici vogliamo fare le cosacce Non si sa mai qua Ma tanto io spunto O a shadow O a karlak A starion A gamba tesa È arrivato Come cazzo è possibile adesso Perché io vorrei entrare furtivo ragazzi Perché se scendiamo qua sotto Ci dobbiamo tankare 20 goblin Non mi pare il top E visto che la furtività è fatta bene E loro su ubriachi In realtà potremmo farceli anche furtivi Perché questi dormono tutti ragazzi Ah perché devo saltare giù C'era un cono di visione A cazzo c'è un goblin sveglio Boni Non l'avevo visto quel pezzo di merda C'hai letteralmente il 100% di chance di prenderlo Perché questi sono attivati soltanto questi qua sopra Il che è buono Sono tutti mezzi ubriachi Va bene Perché finché sono questi stronzi Raga E va bene Il problema sussiste quando diventano 35 Carica Ok Uno ce lo siamo fatto Siamo infatti voglio eliminare questi qua sopra Perché poi possiamo entrare furtivi Allora a te ti posso fare tranquillamente Se entra il danno Ok Te ancora non hai agito Ti faccio così Quell'altro Gli altri sono sorpresi Tecnicamente dovrebbero saltare il turno prossima volta Tu scendi nel mentre Shadward Invisible me Invisible me Ma che cazzo Che bella che lei comunque Zitti zitti Quatti quatti Pipiri pipi Ico de puta Operazione infiltrazione iniziata ragazzi Tu c'hai la mazzetta Shadward no Vai apri Shadward Mancano due HP Grazie di Dio Ok Siamo di nuovo dentro Questa è la parte quella sopra Del forte Che pochissime persone esplorano Perché è piena di scrigni nascosti E roba Questa è una roba molto molto bellina Dobbiamo giusto andare a liberare volo Qui ci stanno tutte zone dove potete saltare A destra e sinistra Che ci stanno scrigni Nascosti ovunque Il Dogo Seal C'hai proprio il nasino Che ti punta le zone dove potete scavare Perché una cosa figa è che se voi mettete la pala All'interno della vostra barra Potete proprio scavare dove cacchio vi pare E non c'è bisogno che voi sappiate Lì c'è la merda E se il Dogo ve la punta Voi avete fatto il tiro di merda su percezione Andate con la pala effettivamente E potete fare queste cose Ma anche tipo piccoli segreti Tipo leve E nemici È molto molto figo Scratch Corriamo Non c'ho abbastanza movimento A meno che non uso Madonna È la prima volta che Ma che bella poi che ho sta posa con le due lame Sembro veramente attacco un Titan Attacco il ruento Madonna quanto mi piace Le due al così con un barbaro Mettiti in salvo Sbrigati Dirigiti al mio accampamento Parleremo lì Smashing Soon my friend Soon we can share the flag Of something liquid At a tale of daring do I'll slip away when the coast is clear See you soon my friend I simply can't wait to pick your brain Che? Eh ma volo diciamo che è un personaggio molto peculiare Dei Forgotten Realms Ah my good fellow Quite the cozy setup you have here I'll just make myself comfortable Thank you so much I was just settling in and reviewing my latest findings Mind flayers, cultists and of course your esteemed company E cosa sai dei mind flayer? Why I'm practically an expert They've tentacles you know Quite shocking The druid Halson had some kind of mind flayer specimen in a jar in his quarters A replica no doubt but truly fascinating to see up close Eh lo sai che mi sa che non era una replica visto che me lo sono sniffato l'altra volta Beh io ne ho combattuto uno Non solo ne ho incontrato uno Ne ho anche ucciso uno Ho ucciso un mind flayer nella sua tana a bordo di un natiloid Però vedete quanto lui magari sembra lo stupido quasi Ma in realtà c'ha quella tipo di intelligenza Perché questo è proprio il perfetto esempio ragazzi in realtà Di essere intelligenti non vuol dire essere carismatici o essere saggi Ci sta proprio la carta no che vi spiegano le varie statistiche del personaggio con un pomodoro Forza quanto facilmente lo rompi Costituzione quanto facilmente resisti al mangiare un pomodoro marcio Intelligenza il sapere che il pomodoro è un frutto Saggezza il sapere che nonostante sia un frutto tu non lo metti in mezzo a una macedonia E lui è proprio quel tipo di personaggio Perché lui ce l'ha effettivamente la conoscenza Non a caso noi nel mondo nostro proprio vero abbiamo un manuale che si chiama La guida dei mostri di volo Ma Alessi è giusto un modo per chiamarli E' più una trasposizione psichica Meno che tu non sia stato infettato da uno dei loro parassiti Se solo la tua incredulità potesse alterare i fatti Guarda Tustis? Puoi darmi una mano? Giubba della benevolenza mi abbia dato un abito da bard Procacciatore di storie, soci e curiosità Che bello madonna Ma che tra l'altro in tutto questo Cioè non è che Astarion è ricercato eh Il ricercato so io Il nemico pubblico dei Goblin E OGA Quando si gira Pa 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 Rivenite venite 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 Siamo a turni Astarion Da 7 a 22 Più il crit Ci proviamo almeno a seccare anche lui Dovrebbe avere la sorpresa E non che è una futanaria ovviamente Oggetto da lancio, giavellotto In the face Perché col fatto che andiamo su destrezza adesso Anche le armi da lancio sono molto più efficaci Questa è un'altra figata assurda Ma domanda, romponi i coglioni anche quelli qua sotto? Ora andate in furtività perché questa è la situazione Quella più critica Eh, c'era questa stronza che guardava di qua Allora perché qua la cosa che bisogna uccidere Sono i bambini Giudicatemi male Ma è la prima cosa che tocca ammazzare In questa istanza ragazzi Sono i bambini perché i bambini vanno a dare Ovviamente l'allarme Ma questi sono goblin Questi chiunque glielo chiedo mi dicono bravo bravo Tanto usano scatto, disimpegno Tutto usano sti bambini del merda Tocca a noi, Oga togli il dual wielding Perché devi fare soltanto un attacco Perché questa cosa mi dà slancio Ci aumenta di un metro e mezzo il movimento Muore Trenta danni Avvicinati Pure tu cominci ad avvicinare Che se arriva qualche bambino Bisogna pigliarlo ammazzettato sui denti Eh? Quel bambino sopravviverà ragazzi Soltanto per essere tirato verso l'altro bambino Apri il culo Carlac tocca a te Come stiamo messi? Reckless 17 danni Nota che stanno a cercare in tutti i modi di farli scappare i bambini È normale Ma aspettate ma ci ho fatto cosa adesso? Ci sta parlando la voce dei sogni Non funzionerà Ma che figo Interagisce anche nei dialoghi adesso Nei combattimenti a stare a non cadere per quel mezzo metro di grasso Tieni qua Oga Attacco il ruento Ha crittato Lancio il racondo Tiralo verso il druido di merda Le Comunque raga ma faccio più danni con i tiri? Lì a cazzo per divertimento che a ma C'è un crit ha fatto 10 danni Lanciarlo 14 Perché quella è la gravità che entra in gioco Eh la madonna Addirittura multi attacca Perché sei di livello 5 Tu non sei in furia no? Quindi spara la leva Così si apre la porta Questi cominciano ad arrivare a fasticarsi loro Oga salta lì Andiamo proprio in mezzo al fight noi invece Carlac salta lì Reckless Eh giustamente lei c'ha anche il più 10 ai danni eh Continuo a dire sta cosa che quando vai in furtività le luci diventano precise Sono stati veramente bravi a farla È una roba veramente un sacco furba Ma in realtà io ti dirò Io sono entrato È partito il fight E sei tu che hai detto Ma si sfondiamo una porta Ho parlato con Nett Ho detto che mi avessi aiutato con il parassita che ho in testa Che hai un parassita nel tuo cuore Che... Che vuoi dire che hai uno di loro? Morta Lobotomia Perché sono bellissima fantasticissima Posso dire che in realtà gli sta veramente bene l'armatura di Carlac Mi piace Sembra quasi una Xena principessa guerriera Credo che quest'artefatto c'entri qualcosa Hmm... That looks very alien As alien as the Mind Flayers They do not belong on this world You weren't speaking lightly when you said you needed help Let me tell you what I know I've been studying these parasites for a while now Ever since I discovered these so-called true souls are infected with them Someone is using very powerful magic to modify these tadpoles They're using them to exert control over the infected I'm sorry to say I can't undo that magic Which means I can't cure you But that doesn't mean I can't help I didn't find what I came here for A way to remove the tadpoles But I found the next best thing I found out where they come from That must be where these enchantments are placed on them And it's where you'll find your cure Tanto ci ho pensato adesso Non è che esiste una dea chiamata assoluta È che c'è qualcuno, qualcosa che sta utilizzando Tutto sto puttanaio di modifiche, dei girini e cose Cazzi e mazzi vari per farsi pensare come una divinità Perché giustamente se il 95% Da gente che c'ha sto parassita Non sa che c'ha sto parassita E sentono tutti nella testa, stra virgolettoni A stessa voce Dicono Dio Nel senso è quella la cosa Questa non è la magia tipica della procreazione dei Mind Flayer No, this is different Altered The magic used is beyond me It's either not of this world Or so ancient as to be lost to even nature's memory Eh, perché probabilmente è roba git Perché quel artefatto di merda Che è quello che ci para il culo e compagnia È roba git Cosa hai scoperto sull'origine dei girini Sembri saperne molto su questo argomento Vieni con me Alle turi dell'alba lunare Eh esatto Perché se stiamo parlando di Mind Flayer Tecnicamente c'è il controllo centrale Cioè il Mind Flayer è letteralmente quello Oppure dal nome ragazzi C'è una mente alveare C'è un cervellone gigante centrale Quindi c'è qualcosa o qualcuno Che o ne ha trovato uno vecchio dell'impero E l'ha controllato L'ha risvegliato D'accordo come posso aiutarti Mi dirai ammazza tutti Va bene, me ne occupo io Tu va a te ne ha affanculo D'accordo, aspetta qua Torno quando ho finito Mintara mi attacca a vista Ed è un peccato Madonna ma tutta sta roba è successa Perché a stare non ha missato quel cazzo di colpo Eccolo proprio là dove vi sta tu Aspetti, aspetti, aspetti Lei non sa cosa le sta per succedere Ad affanculo Ma perché vi siete attivati voi? Ah perché giustamente non ci ho pensato Qua è tutto bucato ragazzi Affarca futtana Io pure sono stupido Va bene no E l'ultima che uccideremo Sarà Mintara Adesso si va da Razgling Anche perché tanto non poteva partire nessun dialogo Visto che sono tutti rossi Facciamo giro lungo Vieni di qua signorino Facciamo i furtivi I furbeti A Starion Ok Carla Non so se l'avete sentita Corri corri Ti scassina Dio madonna Bravissima Adesso apro C'è un cono di visione enorme E invece Vai 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 Giustamente abbiamo anche multi attack Quando si illuminano così È perché può Seguire multi attack Sta cosa È una figata Corri Non troppo qua Quanto c'è ti è rimasto? Quattro metri Perfetto Salta Che facciamo ancora più cazzo di passo C'hai comunque multi attack Puoi passare di qua E poi vediamo C'è qualcuno che ti vuoi fare tranquillamente Quello A posto Dai che devi farti l'ultimo livello Tu effettivamente Shadow Art Che tu sblocchi degli incantesimi belli Ieri ci sono Delle macchine Tecnicamente Sempre nella bellissima borsa Di yoga La bag of holding Tarocca Dovremmo avere Una pozionecina molto bella Chiamata pozione Della velocità Che ti dà un'altra azione Ti dà anche del movimento maggiorato E quindi Possiamo fare le porchettonate Allora Razling è l'ultimo ad agire Questa è una cosa buona Senti Shotane uno Capito Bonga Stasera i tiri stanno andando Menomale Sono contento Porca puttana Pure benedetto Razling Ci proviamo Attacco il ruento Ah è vero che c'hai anche tu Adesso multi attack Madonna che bello Finalmente Anche le melee Possono cominciare a fare Le porchettonate Sì Peccate Merde Eh quello ci vuole L'azione bonus Però posso E per l'altro i ragni Non sono neanche avversari Ragazzi I ragni sono alleati Cioè secondo me Se io mi affaccio I ragni mi fa Bromessa È dalla magna Bravissimo Ma chi manca infatti In mezzo a sto fight Ah quello lì Un po' too much Però sti cazzi Bus Eh vabbè Che bella la voce che ci parla Ancora Che ci incoraggia O magari potrebbe essere Pure che ci dà dei consigli Tipo ci dice Oh guarda che è resistente al fuoco Non gli fa un cazzo Sarebbe bello Se si infila così Ah tu sei vivo ancora Non è che te posso dire Un alleato in testa Però posso Magari fare Non solo è caduto Nella fossa Come un coglione Chi è arrivato in testa Un alleato Che l'ha finito Ma scusa Ma chi è che manca Ah quello lì Ho scavito Ma quanto stai scappando Ma muori Su Tante storie Guarda che te lanciano D'entra la fossa Pure a te Tu sei andato Vabbè sei salito qua sopra Sei sicuro Lo vedi quel lampadario Laggiù Aspetta Eccolo Vola Come la Come la Pemaglia Com'è la Com'è la Pemaglia Mamma mia Ste zambe Di merda Ci stanno i goblin fuori Vai Arrivederci Mi ha fatto un piacere Capitana Qua se avete la puzione Per parlare con gli animali Sicuramente Vi parla Ci rincontriamo così Presto I promised I'd be back Don't worry I have things under control For now I see you've been using the powers the tadpole gives you Good But things haven't gone as you expected You hoped a druid as powerful as Halsin might be able to remove your tadpole But he couldn't You're desperate to be rid of it Understandable But you're looking for solutions in the wrong places It's complicated But I'm an adventurer Just like you Just like you I seek to be free of it But to do that We'll need to think beyond local healers Your parasite is unusual It is wrapped in magic that prevents its removal Until the source of the tadpole's magic is destroyed Any attempt to remove it will kill you You were lucky that Halsin knew this His instincts are right Her parasites are merely a symptom of a greater sickness in Faerun No in realtà lei è ancora un'altra cosa Perché ci abbiamo l'assoluto Lei che è ok E in realtà l'artefatto è un'altra roba ancora Cioè noi non siamo come gli altri che riusciamo a fare dissonanza Perché probabilmente, anzi sicuramente quello è un artefatto Gitti Anki che c'ha qualche cazzo d'inciucio Qualche roba dentro, qualche meccanismo, magia Che blocca momentaneamente sti effetti Magari perché, che ne so, veniva utilizzata all'interno di quegli asili Di cui parlava ormai Leizel C'è quella roba che te lo mettono vicino Te fanno l'operazione E poi te lo tolgono magari E infatti tanto lo chiamano tutti arma, sì Che è una cosa greve di per sé Quindi non è neanche a due sta roba È a tre È uno standoff a tre Perché giustamente ci stanno I Mind Flayer E i Gith E chissà che cazzo altro E quale sarebbe questo morbo The Absolute's aims are not yet clear to me But its progress towards domination is clear These parasites are more than illithid spawn They are vessels for control The infected hear the voice of the Absolute And believe it to be a god That is how the cult of the Absolute is spreading The highest of their rank, the True Souls Carry a tadpole just like yours It is how they receive their orders It is what makes them obey When the order to transform is given It will not be a matter of days They will be Mind Flayers in an instant Were it not for my protection So would you Allora me stai a riconfondere zia Cioè quindi vuol dire che sei tu Che non me stai a far trasformare O è sta scatoletta Lego del cazzo O entrambi Perché effettivamente se uno ci pensa Quella scatoletta di merda Ha bloccato la voce dell'assoluta Quindi secondo me la cosa è che Uno è tipo EMP Cioè non fa uscire o entra onde Tu invece vai sotto il punto di vista magico Cioè uno me blocca i pensieri Uno me blocca che va avanti la trasformazione Secondo me è proprio quello il fatto È che noi ci manca un passo Cioè secondo me quello che avremmo dovuto fare dopo Mi sa che era proprio quello Ci ha messo il girino E poi è esplosa male Penso che poi il passo successivo sarebbe dovuto essere andare là Perché ci facevano tutto l'operazione E diventavamo proprio al 100% adetti Come riesce a proteggermi? I have powers of my own Unique powers But know that we are alike I've been trying to escape from this evil for a long time Once I almost succeeded Now through you I've been given a new chance You can go where I cannot And I can protect you from that evil If we work together We may turn this around Hells They need me I have to go Ho capito Lei è una trasposizione Del parassita Che si manifesta in sogno Cioè perché sta a fare tutti questi dialoghi? Perché è un parassita Che ancora non è collegato alla mente alveare E non ci si vuole collegare È questa secondo me la cosa È il parassita che vuole essere libero Cioè non vuole entrare a far parte della mente alveare Io mi voglio fare i cazzi mia Voglio fare quello che cazzo voglio fare magari È quello potrebbe Poi che cazzo ne so Che sta succedendo qua invece Anche perché siamo palesemente nello spazio The power I used to protect you I stole it from someone They want it back I will hold them off for as long as I can But sooner or later I will be worn down You must discover the source of the magic that controls the parasites Before that happens The cultists are gathering At Moonrise Towers Use the powers your parasite gives you to convince them you are one of them And when you find the source of their magic Destroy it Go Our freedom depends on it La trova our freedom Questo è un puttanaio Cioè raga questo è proprio il libro dei Forgotten Realms Cioè ci stanno più e più strati di persone che stanno a fare qualcosa Che stanno a pucciare le dita dove non devono pucciarle È un puttanaio che per carità è bello Perché c'ha senso nella cosmologia Ma questo è un casino Ma anche perché cioè lui si mostra a noi con quell'aspetto Perché sarà sicuramente qualcuno che ognuno di noi fa il roleplay no? Perché ho sentito pure che la sua vecchia versione di questa persona Era stata un sacco criticizzata Perché era molto sessuale Perché era letteralmente il chi ti faresti Chi sogni e compagnia Quindi la gente si è lamentata del ritrovarsi a fianco uno macione barbuto Però la me verrebbe anche da dire gente Se vi dice chi ti sogni la notte Stai in lingerie con i gioielli e tutto Non è che besta di cocchiette andresi a fare kebab veramente a cisterna della tina Mi sembra un attimo sottinteso Però hanno convertito quella figura in un guardiano Quindi ognuno si fa il roleplay no? Una persona significante Un fratello Un padre Un mentore Però non è quella la sua vera forma E potrebbe essere O ripeto Il girino stesso Che dice Oh possiamo Possiamo farci i cazzi nostri a zio O un essere ancora superiore Qualche dio Secondario Un mind flayer stesso Che vuole Che si è ribellato magari Che vuole inculasse a sangue l'impero O evitare la nascita dell'impero Anche perché l'assoluto Sono abbastanza sicuro Che appunto abbia preso uno di quei cervelloni Degli Illithid E stia facendo delle porchettonate Per un po' rimettere in circolo L'impero Illithid Però Scusate Questo è flusso di coscienza mio Poi dalle tue ricerche È emerso niente Che possa aiutarmi con questo problema del parassita? My research turned up a rather brilliant technique That seems quite actionable It's not too deep Just behind the orbital socket I could attempt an extraction I've a needle in my tunic after all Quante volte l'hai già fatto prima? I saw you I've dreamt of it A thousand times older Allora questo sarà un po' per il meme Sarà un po' per farvi vedere le cose brutte Disapproveranno tipo sicuramente tutti quanti Ma fallo Ma che poi Alla solita è la cosa Vedete perché questa è una roba Che se voi non conoscete i voli Ma che cazzo Mi fido no? Sarà istruito Intelligente Sa quello che cazzo sta a fare Non so se avete capito Lui letteralmente Sta ficcando un ago Dietro la nostra cavità orbitale Per cercare di prendere il parassita Cioè lui sapete tipo Questo vuole fare Mi vuole stappare come una Peroni Ma che cazzo vuol dire? Sopporta il disagio Lascia che continui Per i pugni Per i pugni Zio non è che c'è qualcosa Che si frappone È che mi ha infilato L'ago nell'occhio No sì Lui almeno ci prova Nel suo modo semplice Resta il più immobile possibile Ad occhio allo strumento Ma permettigli di procedere Trattieni il fiato Ma poi come che c'è Raga ma è come se io dovessi Che cazzo ne so Togliervi un dente E arrivo con le cesoia da giardinaggio Ma che cazzo vuol dire? Tratteniamo il fiato A piccola dal tuo cervello Con un violento giro Il tuo occhio Plops down Into the mud Tratt Il pausa Si guarda Il tuo occhio E si riconosce Slightly Asseglie Into the mud Ma ragazzi Ma io Mi tengo l'occhio cavato Non so se avete capito Hai cavato via Il mio fottuto occhio Oh, please Try not to overexert Yourself You're in a rather fragile state At present I can't help But feel partly responsible Perhaps There is something More I can do Take this A far superior relic To that old Jelly You were trained To Try it on for size And It was Very nice To have met you I'm sure You'll sort out Your little brain problem One way or another Far away from here If you were hurt Terribly sorry My friend Occhio sanguinante Sparito Però Essenzialmente ragazzi Noi non abbiamo perso Veramente un occhio Perché lui ci ha dato Un occhio di riserva Che ci permetterà Da adesso in poi Di vedere l'invisibile Può vedere le creature Invisibili entro 9 metri Tali creature Devono superare Un tiro salvezza Su destrezza O perdere la condizione Invisibile Noi abbiamo un Ma tanto aspettate Pony Ma mi sa che è cambiato Esteticamente Ho effettivamente Un occhio Non nero Ma che cazzo Dici C'è un occhio verde Madonna Adesso c'ho non naturalmente Ma ho gli occhi Di due colori differenti Questo ve l'ho fatto vedere Sia per chicca Sia perché Oga è una rincoglionita Per adesso voglio farvi vedere Le chicche Anche quelle cose Che magari il giocatore Medio giustamente Chi cazzo Se fa mettere un paletto Nell'occhio da volo Adesso vi vado a far vedere Una chicca Che non tutti sanno E questa è una chicca In cui se siete un druido È ancora più bella E la madonna Che cazzo è Ma dall'accesso anticipato Si sono moltiplicati Tacco furtivo Così entriamo anche in fight Tecnicamente sti cosi Dovrebbero essere Deboli a fuoco No? Madò Che bel Però dovrebbero fare Una roba Che mi dà fastidio Permettete di spostare In alto Sti cazzo di modelli Voglio vederli bene Dio madonna Se ci sta una waifu Devo vedere le cosce Lignaggio di Avernus Vediamo se ci arrivi Dritta Curri Ah ma Aspettate Hanno sistemato Anche sta cosa Ma che cazzo dici Hanno sistemato Anche sta rottura Di coglioni Dalla furtività Boni Cioè nonostante ti sgamano Se la tua azione Stai tankando una persona Te la fanno finire Prendi sto mefit di merda E tiralo su quel sorvegliante Dei boschi Yet Usa il tuo potenziale Ilifid Sei sicura mamma Che tanto io continuo a dire Sono bellissime le cose Perché C'è C'è sta cazzo di Diavolessa Con le due Allora Oga Dritta Che belli poteri Ilifid E tra l'altro Ci abbiamo anche Multi attack Cioè quello viene calcolato Come un attack Hanno Mi chiamala Hanno Power up Anche sta roba Perché io ho usato Una skill Ma mi permette anche Di fare il sequel Allora questo mi ha rotto Il cazzo Prendilo e lancialo Contro questo Posso anche Crittarlo Questo è un potere Illid Critta Tanto si così Sono delle bombe Perché esplodono Te merde Poi visto che ho Preso i talenti Carica verso il tizio Avete capito La build Che ho cercato Di fare su Oga C'ha una mobilità Tramite lo slancio Gli incantesimi Le abilità Che gli permette Di essere Una mina vagante Kaga Holodan Mi ha informato Dei tuoi progressi Mi fa piacere sapere Che il rito Delle spide iniziato Partirò presto Dal bosco ammantato Per Baldus Gate Se hai bisogno Di ulteriore aiuto Dal mio circolo Questo è il momento Giusto per chiederlo Una volta protetto A dovere Il boschetto di smeraldo Sarà il dominio Dei druidi Dell'ombra Se siete un druido È una cosa greve Sono letteralmente Tipo i paladini oscuri Cioè sono robe Brutte Tutto questo robo Ragazzi Era per Fare un happy ending A Kaga Conosco la verità Il tuo scopo Impardonirti Del boschetto Per conto Dei druidi Dell'ombra What? That damn nose of yours Has gone poking In our business Mistress Ollidon I can explain Shhh No need It couldn't be helped Kaga What is the meaning of this? You think yourself Quite the spy Don't you? Go on Tell him I druidi dell'ombra Vanno in padronissi Del boschetto Il circolo Andrà incontro A qualche cambiamento Shadow druids Kaga Have you lost your mind? You and Elsin Welcome untouchables To your midst You defiled the grove For the sake of harmony Oliden speaks truth Who among you disagrees? Who would see this grove in ruin? The choice is made Kaga Burn the tainted away Start with the snitch Persuasione Le ombre Non ti salveranno Ti corromperanno Metti fine a tutto questo Finché puoi No You You don't know What you say In shadow We are purified Ma sapete che in realtà Il mio occhio Non è soltanto verde È dorato C'ha delle linee dorate Tipo meccaniche Ma che bello Recita l'incisione Che ha letto sui murali Fai leva Sull'orgoglio di Kaga Ricordato le origini Del boschetto Corga eyes you intently As you speak the text Etched into the frescoes By claw and tooth From root to thorn The old oak's grove To wildlings sworn In darkest hour A concord made Twixt harp and wild Against the shade The towers seized The battle done The moonrise Broke the darkest one When When the darkest hour fell It was us The broad light Sylvanas demands We illuminate shadow Not hide within it How was I so blind? Careful Kaga The shadows don't forgive I belong To the shadows No longer You've no power over me You would question my power Mother Earth Hear me Grant me your wrath Che tra l'altro Questo è un dialogo unico Che è partito Perché noi abbiamo esplorato E abbiamo fatto le cose qua dentro Holodun Vuoi vedere una cosa interessante? Vuoi vedere la tua amica Che diventa un non morto? You once called me a monster Seems I've proven you right Il fascino del potere È desistibile Io lo so bene Ho pucciato il ditino E il popolo di Zevlor? We will grant them safe harbor Until they depart Meanwhile Help us contend with the goblins Perhaps we can dissuade them from attacking You've bought us some time here And they'll scatter It's no small thing to ask But I've seen you fight You're equal to the task Ci sto già pensando Cioè tranquillo Madonna Datemi un attimo Dio Cristo E vi paro il culo E vai nei goblin E se vai nei goblin E vai dalla megera E fai uscire la gente dall'edificio in fiamme E trasformati in un mind flayer E porca puttana Ma fate qualche cosa E non rompete i coglioni E che cazzo Un attimo per dio Adesso ragazzi Si farà uno sterminio di goblin No 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 Signora dei sogni Fatti i cazzi tua Possiamo dire che Entrambe una a fianco all'altra Sono bellissime Perché hanno questo contrasto Entrambe una più chiara Una più scura Capisco cosa intendi Quando ti vedo Non riesco a pensare ad altro Non me lo farò ripetere due volte Che aspettiamo? Non fino a che sia sicura Non ti fai freddo Conosco qualche magia Che potrebbe aiutarmi A domare il tuo fuoco Vediamo Sì 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 Se hai pensato di qualcosa A mattina Mi piace di sapere Per ora È enough Just to know You care enough To try Oh 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 Bonnie Scratch Aspetta Stai a cuccia Aspetta che è veramente Sta cazzata Che avevo pensato Vorrei provare a raffreddarti In qualche modo Se hai alcune idee Sono all'interno Give me all you've got Rigreiamo l'acqua This is clever Might even work Come here I'm dizzy And you Are you alright? Oh patata Ma che bella Che è stata sta cosa Niente di permanente Ne basta assolutamente la pena I hope that's true Because I'm hoping for seconds Thirds and fourths Once we find a way to cool off this engine Credimi è in cima alle mie priorità Mine too Soon enough You're going to be mine But until then I'll play nice I don't mind sharing you with the bookworm While I'm indisposed by the way I'm sure he can keep you entertained Until I'm more Approachable Eh infatti io speravo in una roba del genere Forse perché devi fare da tifling O devi avere qualche resistenza Magari un anello di resistenza Una pozione Bagnarla lei Bagnarci noi Ma che figata sta roba Sei l'unica per me Carlack Credimi Allora si va a sterminare l'accampamento Si comincia la caccia a tango Separatevi tutte Voi andate verso di qua D'altro bello che potete accederci anche furtivamente Vediamo se veramente L'ho capita davvero quella roba Se io faccio il lignaggio e miro quello Mi sa che la fa anche se entriamo in fight Fai vedere Raga questa è una figata Sì ok io voglio entrare in fight facendo questa cosa Ve la fa fare l'azione Perché giustamente la spendete La chi fa proiettili Zero danni Comunque siamo buildati eh Buono finalmente Sono contento Carlack prendi questa E lanciala dalla signorina Che bello D&D Oga Tu dovresti avere Ah ma tu ci arrivi Perché giustamente c'hai slancio Questa cosa di slancio Raga Cioè io senza bonus C'ho 17 metri De movimento Una persona normale C'ha 9 metri E adesso inizia il fight Quello serio Ma quello che cazzo sta facendo Sta Sta pisciando Carlack tu dovevi attaccare No Carlack si è solo infilata Vabbè vado con la mia compagnuzza Vado Astarion Visto che là davanti c'è una situazione Un po' di caccapupù Lo sai tu che cosa fai Ti ricordi la nostra bellissima pozione Dell'invisibilità Ti trinchi questa E anche una pozione della velocità E vai E tu fai un attacco furtivo a questo Tu vai in ira Cazzarola sta lì Quell'orso gufo Sì perché questo Per liberarlo e farlo diventare un pet Dovete stermi Dovete fare sta cosa Dell'accampamento Vedete sta cosa delle orde Che si muovono insieme Una figata Perché prima doveva essere Uno che si muoveva Uno che si muoveva Sì sì venite venite Cosa avessimo avuto Adesso che stiamo al 5 Gale Qua facciamo le porchettonate Perché Gale Sblocca palla di fuoco E altre robe a voi grandi Va bene Tanto c'è multi attack Anche con la balestra Si può fare Siamo di livello 5 Un accampamento di goblin È un cazzo di niente Adesso Lancialo dalla signorina Qua sopra Servo uno scheletro Non c'è limite Alle evocazioni Madonna che belle le animazioni Corri dal signorino qua Colpo Buonissimo E poi ci avviciniamo anche qua Il nostro caro arciere Dai una mano All'altra evocazione di Shadowheart Dovesti fartelo easy Comunque le evocazioni di Shadowheart Non ci prendono Attacco furtivo sul signorino Perfetto Basta per adesso Tu tornerai sicuramente indietro Perché c'è sta spazio Ecco bravo Tanca di Oga Sali su dalla signorina Prendi questo catavere Tiralo alla personcina qua sotto Quei barbari fanno veramente Il devasto Cioè i barbari sono delle macchine da guerra Cioè se voi ci pensate Questo non è che è stato un fight Sì ci sono state delle magie Ma sono state Oga e Karlak Boom 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 A tirabotte Leppa Un altro fatto Vediamo se posso veramente farla sta cosa Bacchetta dello stronzo Ora potete fare veramente un necromante Dio mio Evocare tanti non morti Che cazzo di figata Anche perché giustamente Non ci ho pensato Animare morti Non c'ha concentrazione Quindi puoi spammarlo con ogni slot Figata Allora Oga Vediamo se riusciamo a farcelo in un turno Fortuna del reame remoto Il crit lo usiamo adesso Sette di crit Minchia che merda di tiro Andiamo carica 16 danni Danno massimo Bucio di culo Tanto sto fight Sta durando anche meno De quanto mi aspettassi Karlak Uno l'hai mancato Recuperiamo subito Ma questo è Perché i dati stanno tirando bene Queste sono le build Quelle belline Poi siamo anche De livello 5 Ma avere multi attacche È sottovalutato Un barbaro Che ti può fare 3-4 attacchi In un turno Con vantaggio Non è Io non ho neanche il più 10 Infatti Karlak Mena forte Goblin Kappa Che tra l'altro bellissima level Che c'ha Guardiana della notte Minzara Anima pura Dell'assoluto Testimone Assistito all'omicidio Di una guardia Lo rivelerà Le altre guardie Prima possibile Ma io non vedo l'ora Di arrivare a Baldur's Gate Ragazzi A Baldur's Gate La facciamo una rapina Se c'è veramente una banca La facciamo la rapina Tanto siete rimasti voi Nel senso È inutile che voi volete Fa scattare l'allarme Non so se l'avete capita Sta cosa Karlak Io non ti lancio di sotto Soltanto perché voglio I tuoi loot Sei veramente Tanto 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 a rischio Karlak Uno Bravissima Una benedizione Di terzo livello Perché così prendiamo Tutto il circondario Tanto potete usare Anche i ritratti sopra Se siete scomodi No prima di time to kill Ci arrivi là tranquillamente Yes Io ho paura ragazzi Che me la fionda di sotto Ma sai che vedi Ma a me la mia Normalmente Va fanculo Corri qua Vai nira Voglio lanciarla di sotto Ragazzi Ma questa c'ha dei drop Interessanti Non mi pare il caso Moccate di sotto Da sola Come una peracotta Riapplica marchio Del cacciatore Facciamo un D6 Un D4 Ma non mi ricordo Sneak attack Minchia Quanto c'hai Deciva Mi sa che sto attirando In merda No Sto attirando In merda Oh Bella No Quella è una roba Da draw Mi pare Perché i draw Sbloccano Proprio come cosa Il poter Usare passo Pelato O misty step In inglese Vai per terra Ti prendi Anche un attacco Un reckless 25 danni Parassita Oh Armatura da draw Questa la possiamo dare Da Starion Fammi vedere gli abiti Di Minthara Come sono da campo Sobri Ma scusa Ma l'ho lasciata nuda Ma dai che così Sembra veramente Povera stella Però vedete Perché non mi fate Rubare anche l'intimo Ma non perché voglio Vedere la nuda Perché me ne prega Che cazzo Però io tipo Quell'intimo Da draw Lo voglio Tenetevi il denaro Ti darò un bel po' Da fare Un carattere risoluto Diciamo E' un carattere risoluto Ma Il tempo Sì E' un carattere risoluto E' un carattere risoluto Ma C'è Certo Per ora Ti dover Mi ringrazio La carattere Stia La natura Previene E' Tu Mi 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 Su Il Ed Perə Aspara Mi Maha Dio Can Usare Questa 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 E l'ingresso del sotterraneo Che bella sta cosa Bellissima cazzo Rimpianto Ah è diventato un cazzo di falcione Questo un tempo era un bastone Finiamo la giornata Facciamo le feste Si festeggia Con questo cambia molto Se voi fate un finale cattivo o altro Signorina Visto che siamo due bardi Ti va di suonare insieme Ok Le spine d'orsali dei goblin Con strappato via mani nude Hai visto questo fisico Sarebbe un crimine Non scrivere una canzone a riguardo Bellino Sembra divertente All with her for company Questi buoni tiflingi Sono sicuro che lei avrebbe approvato Ma sapete che a un certo punto Secondo me lui potrebbe Veramente forse sacrificarsi Però come bomba Cioè magari che devi Fai esplodere una nave O qualche roba E fa la roba greve Beh deve essere molto intelligente Deve essere riuscita a fare tutto questo Smart does her a disservice Purtroppo sfortuna vuole che io sia una ninfa Sotto smentite poi Ha Very funny But as we all know Nymphs are sticklers When it comes to their bathing routines You my friend Haven't been near a fresh spring In a ten day or more Not that I don't appreciate your Musk Actually rather like it Well It seems as good a time as any For me to stop babbling on Sai un fetish per l'odore Comunque no aspetta Non fermarti adesso Cos'altro ti piace Perché gli piace Ho che essere Podulata Were I to recite that list I fear we'd be here at dusk tomorrow Many things I assure you But a conversation better save For another time With my condition as volatile as it is I fear any undue Excitement May tip it over the edge So to speak Go Indulge in the frivolities They're good for the heart And mine will be all the lighter To see you enjoying yourself Gail Gail mi stai dicendo che c'hai il durello esplosivo Fa tipo miccia Ma essi sta qua da solo a bere E certo che l'ho notata Non era una festa senza di te E hai delle corner bellissime Sono piuttosto invidiosa Da tiefling Ouch You don't need to mock me when I'm feeling low But Off with you This is your day Have a dance Enjoy the music Vorrei che ci fossi anche tu Ma rispetto ai tuoi bisogni di tranquillità Sometimes alone beneath the stars And I'll be back to my old self Promise Still It's a night to remember You've made sure of that Comunque per chi non l'avesse ancora capito Oga è letteralmente la mamma del gruppo Cioè per questo è così pacioccona e compagnia Questa sta Che cosa stai facendo al mio cane? Il mio Dopo due minuti Ma possiamo dire quanto sono bellissimi I personaggi I volti Le espressioni Con sta luce Con sto mood Ai profughi Temi che Char non approverebbe Gli per te C'è lei zel Poi venga a parlare pure con te Dammi un attimo You know I never pictured myself as a hero Never thought I'd be the one they toast For saving so many lives And Now that I'm here I hate it This is awful Vabbè ma lui Proprio me ne freghiste Sta cosa l'ho cominciato a capire Eh beh non è così male dai Pensa a tutti i goblin che hai ucciso True That was fun Still I would have liked more for my trouble Than a pat on their head And vinegar for wine Io più conosco a stario In realtà E se mai ci sarà una possibilità Di togliergli sta cosa Di farlo diventare un vampiro puro Io non ce lo voglio far diventare Lui diventa veramente Tanto pericoloso Perché è molto Menefreghista È molto Incentrato su se stesso È molto Malvagio Quindi lui è greve Se diventa un vampiro puro Prendi la sua bottiglia E prova il vino E vatti a fare un seghino nella foresta Che te devo dire Che cosa intendi con un po' di divertimento Ma che cazzo vuoi? Ma ti guarda Non ne sono sicura Ti farò sapere All right But don't take too long You're not the only Tasty morsel around here Beh, ci abbiamo un campo Pieno di tifling frighi C'è sta pure Alzim laggiù Fai quello che vuoi Madonna Immagino quel da verno Se non ci fosse Molto spazio Per la gentilezza I tried In the beginning Blew up in my face Spectacularly Lesson learned Never try to befriend A devil Cambion Or imp Orphans Are good for a drink and joke But you can't turn your back on them But hey Enough about that That's history now I want to think about the future The one nice thing About being trapped In the inexorable grind of time Is you've always got something To look forward to Madonna Questa è greve Voglio starti vicino Ora A dieci minuti da ora A dieci anni da ora Gods, that's hot Don't get me started I might never stop You better go enjoy the party Before I do something I'll regret I like you unburnt After all Bye soldier Nobody켓 And I like you If you don't quit I'm sorry Have a thousand I'm sorry Whatinho Why Can't you I'll forget I'm sorry I'm sorry But I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry Grazie.